state per assistere alla prima puntata del lab il format speciale che realizzo in diretta tutti i martedì alle 18 qui sul canale twitch è un format che di solito non vedete qua su youtube infatti non era previsto che venisse pubblicato anche qui ma voglio regalarvi questa prima puntata per farvi rendere conto di che cosa si tratta e magari a qualcuno può tornare utile perché il lab è un ciclo di contenuti con il quale io tento di spiegarvi come funziona il web come funziona l'internet ma è anche un ciclo di contenuti con il quale cerco di darvi degli strumenti pratici per difendervi dalla tecnologia per imparare ad utilizzarla per non cadere vittima di problemi di privacy di sicurezza di cyber security e di altre cose che vedrete tratteremo come funziona il format è in diretta disponibile per tutti il martedì alle 18 però per chi vuole recuperare le puntate il modo migliore visto che non verranno ricaricate su youtube tranne questa che voglio mettere ho deciso di caricare appunto solo per mostrarvi il prodotto il modo migliore per recuperare le puntate è abbonarsi al pantoprazolo club il pantoprazolo club non è null'altro che il nostro social network privato il la community che ho costruito e che potete trovare all'indirizzo www.pantoprazolo.club e che tra le altre cose gruppi di discussione discussioni tra gli utenti contiene tutti i video che non vengono ricaricati su youtube cioè i video speciali come le puntate per esempio del lab vedete che ce ne sono già alcune altre si aggiungeranno e quindi se volete potete venire a far parte di questa community l'ingresso è a pagamento anche perché è un ottimo strumento per sostenere il mio lavoro e sostenere il canale permettermi di andare avanti e realizzare contenuti tutti i giorni e tra l'altro insieme all'abbonamento al pantoprazolo club vi porterete a casa anche una fantastica applicazione mobile del nostro social network per i vostri cellulari per i vostri smartphone qualcosa di veramente incredibile di fantastico gira anche sui tablet la potete usare su iphone su android ovunque oppure potete accedere ovviamente anche tramite l'interfaccia web all'interno trovate non solo i video e le puntate del lab potete caricare voi stessi dei video troverete i gruppi di discussione relativi al risparmio alla finanza alla politica a tutto quanto insomma un social network libero per difenderci dai regolamenti sempre più oppressivi e stringenti delle grandi piattaforme alla fine per poter dire quello che volevo ho dovuto realizzare il mio spazio l'abbonamento costa 8 euro al mese oppure 80 euro all'anno potete pagare con paypal potete gestire l'abbonamento direttamente da paypal quindi annullarlo decidere di smettere di pagare insomma sarete autonomi anche in questo dopo avervi raccontato questo però io vi invito ad andare a fare un giro su www.pantoprazolo.club trovate il link qua sotto in descrizione e ovviamente vi lascio alla puntata del lab in cui vi spiego perché tutti gli youtuber sponsorizzati dai vari servizi di vpn non è colpa loro ma purtroppo vi vendono uno strumento che non è così semplice da utilizzare vi vendono uno strumento complesso molto spesso dicendovi che è per la vostra sicurezza ecco però come qualsiasi cosa anche la vpn deve essere utilizzata con criterio se la volete utilizzare ai fini della sicurezza o della protezione della privacy altrimenti rischiate di farvi male buona visione buon divertimento e spero che il contenuto possa esservi di aiuto eccoci qui questa è una puntata del lab il primo la prima puntata di questo nuovo format la prima puntata che faccio è un format un po particolare per quello che io faccio di solito è un format di laboratorio se preferite chiamarlo in altra maniera potete dire che è un tutorial e un po è vero solo che è un tutorial che facciamo in diretta io e voi io qui della strumentazione elettronica dei computer delle cose e sono qua con uno scopo uscire da questa puntata che potrebbe durare un paio di orette ad occhio e croce avendovi resi autonomi nel saper diventare anonimi online ma prima ancora nell'essere riusciti a capire che cosa significa essere anonimi online allora perché siete qua io penso che dobbiate farvi questa domanda perché siete qua avete letto sul titolo di questa live che per inciso non finirà su youtube non la potrete recuperare su youtube potrete vederla soltanto per il periodo che la conserva twitch se siete abbonati al canale e poi la troverete solo sul pantoprazolo club quindi sarà soltanto lì e non verrà ricaricata su youtube avete letto nel titolo di questa live diventiamo anonimi sulla rete con vpn tor e siccome probabilmente sono due termini che bene o male conoscete che avete sentito nominare più volte magari siete anche tra quelli che una vpn l'hanno pagata magari siete abbonati a un servizio di vpn vpn è una virtual private network poi parleremo dopo dei tecnicismi di che cos'è ecco vi siete diciamo sentiti chiamati in causa e attirati da questa cosa perché insomma l'idea di essere anonimi online ci piace ci piace l'idea di poter magari visitare dei siti o non lo so interagire su delle piattaforme con la consapevolezza che nessuno ci potrà trovare e identificare come persone fisiche disclaimer è necessario ovviamente ci sono mille ragioni buone e anche cattive per essere anonimi online voi potreste pensare di imparare in questo momento degli strumenti che vi possono servire per non essere identificati qualora per esempio commettiate un illecito o addirittura un reato e beh questo è possibile questo è un rischio io oggi sono qui per mostrarvi come funziona un coltellino svizzero potete usarlo per tagliare le mele se andate a fare i boy scout oppure per tagliare i rami per farvi la tenda dove dormire e poi potete anche piantarlo nella gola di qualcuno vi ricordo che è illegale vi ricordo che è un reato vi ricordo che non vi sto insegnando queste cose per abusare di una strumentazione a fini diciamo non legali non voglio dare una collettazione morale buoni o cattivi ma non mi interessa mi interessa soltanto che voi non compiate reati e che non pensiate che sia qui per questo motivo perché non è per questo che siamo qui ci sono degli ottimi motivi in realtà per voler essere anonimi soprattutto nel 2021 e soprattutto considerando che io sto dando per scontato e voi magari per la gran parte darete per scontato che siamo tutti in italia in europa e negli stati uniti d'america magari però magari non tutti voi vivono in questi posti magari qualcuno di voi vive in un paese che è un po meno libero o magari qualcuno di voi inizia a pensare che anche se vive che ne so in irlanda nel regno unito in francia in italia in austria o in polonia forse è il caso di iniziare a prendere delle precauzioni forse non vi fidate fino in fondo dei vostri governi forse non vi fidate fino in fondo della magistratura e della giustizia del paese in cui vivete quale che sia il motivo essere anonimi e sapere come fare ad essere anonimi è sempre una buona cosa ma siamo sicuri che sappiate tutti che cos'è l'anonimato ora il fatto è questo essere completamente e totalmente anonimi idealmente significa che se io mi collego con il mio computer con il mio telefono con il mio tablet con quello che è ad un sito o semplicemente banalmente mi collego alla rete nessuno sarà in grado di a partire dalla mia connessione e quindi dal mio percorso di visita e da quello che online faccio nessuno sarà in grado di risalire alla mia identità questo è l'anonimato l'anonimato significa riuscire a raggiungere la condizione in cui io mi collego ad un sito un server una piattaforma quello che volete voi e sono in grado di operare su quel servizio remoto chiamiamolo così chiamiamolo servizio qualsiasi cosa essa sia e ho la garanzia che nessuno potrà risalire a me quindi magari lascio su questa piattaforma dei documenti mando un email visito semplicemente delle pagine e so che nessuno potrà mai dire a andrea lombardi ha inviato questi documenti ha visitato queste pagine ha mandato queste email bene sappiate che raggiungere questo risultato è virtualmente impossibile nel senso che come tutto tutto quello che riguarda l'informatica quantomeno è si tratta sempre di miglioramenti incrementali partendo da una condizione zero in cui tutti praticamente possono essere a conoscenza di quello che io faccio e di risalire a me quindi grado di anonimato pari a zero io posso iniziare a prendere delle precauzioni per aumentare il mio livello di anonimità di anonimato scusate posso aumentarlo 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 ma è un processo indefinito indefinitamente aperto arrivare al cento per cento diciamo che è un obiettivo come si dice asintotico cioè che mi avvicino mi avvicino mi avvicino è però fondamentalmente è praticamente impossibile raggiungerlo con la garanzia che questo valga sempre e comunque detto questo fatta questa premessa oggi siamo qua per capire come si fa a raggiungere un certo grado di anonimato quale grado con quale consapevolezza utilizzando il coltellino svizzero degli strumenti senza rischiare di piantarselo nel collo tentando di giocarci quindi signori come sempre io vi voglio dare un fantastico benvenuto benvenuti nel lab numero uno ah che bello siamo pronti abbiamo tutto a posto voglio ricordarvi soltanto una cosa questa è una puntata che è fondamentalmente comunque un pochino interattiva nel senso che vedete che c'è qua la chat io la leggerò anzi inizio subito a leggerla perché voglio coinvolgervi in questa in questa puntata non voglio essere soltanto io a parlare voglio semplicemente parlare sì ma ascoltare anche quello che voi avete da dire perché è importante è importante capire qual è poi la vostra esigenza perché io cercherò di rispondervi insomma cercherò di dare un seguito alle vostre richieste laddove è possibile laddove sono in grado di farlo chiaramente allora una domanda che fanno subito è ma diventare anonimo è una cosa buona o è una cosa cattiva beh chiaramente dipende per chi cioè per chi è anonimo o per chi diciamo subisce l'anonimato altrui può essere buono può essere cattivo è buono sapere come fare a ottenere un certo grado di anonimato questo è fondamentale perché nel mondo in cui siamo oggi per come si mettono le cose oltretutto è fondamentale saperlo è fondamentale saperlo e quindi vi invito a stare qua e a mandare qua al più persone possibili perché credo che sia una cosa che dobbiamo capire come funziona la rete dobbiamo capire come funziona la rete e capire cosa significa essere anonimi o non esserlo o non esserlo stavo leggendo ok questi l'ho già letti prima parlerò semplice semplice non preoccupatevi sarà tutto abbastanza comprensibile anche a chi non ha un background tecnico ovviamente qualcuno dice che il software non basta per l'anonimato un po' è vero un po' no è un discorso un po' più complesso ma vedrete che cercherò di dare una risposta anche a questo ti darei prime se non fossi da un cazzo di iphone però va bene questo va bene saluto tutti quelli che si sono collegati nel frattempo scusate io cercherò di leggere solo i messaggi che hanno un senso tecnico e vi pregherei di cercare di utilizzare la chat a questo scopo cioè alla costruzione della puntata a parte le cazzatine della navigazione incognita so cosa mi ha lasciato stupito è la seconda voce ovvero attività visibile al datore di lavoro alla scuola calmi 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 ecco c'è già qualcuno che ci dice io sono con nord vpn lo uso solo quando devo guardare le partite di tennis a gratis qualcuno chiede se le tecniche per l'anonimato online possono trasformare un normale utente in un individuo attenzionato dal servizio di controllo istituzionali arriviamo anche magari a dire questo e chiaramente salutiamo la digos e chiunque ci sta ascoltando in questo momento per favore usate la chat appunto per questo scopo per costruire la puntata ok va bene iniziamo allora partiamo dalla base partiamo da quello che succede banalmente quando qualcuno magari vi dice che dovete essere online perché bisogna anonimi perché bisogna essere anonimi online anonimi da chi soprattutto la prima domanda da farsi è io voglio essere anonimo rispetto a chi perché se io adesso su questo computer che voi non vedete inquadrato dalla camera digito l'indirizzo di un sito e l'ho appena fatto e batto invio e vedo questo sito beh sto in effetti navigando in anonimo rispetto a voi però non sono anonimo rispetto ad una serie di altri soggetti in primis non sono anonimo rispetto alla compagnia che mi fornisce la connessione quindi qui avrò un router in casa un modem un modem router in realtà perché fa il doppio lavoro fa il lavoro del modem quindi modula il segnale e lo invia sulla rete e fa il lavoro del router quindi in strada i segnali diversi che provengono e fa anche da access point wifi fa una serie di mestieri quello che noi ormai comunemente chiamiamo router ok quell'aggeggio comunica direttamente con la compagnia telefonica che mi fornisce il servizio ma se prendete un cellulare se prendete quindi un una connessione mobile non cambia granché il concetto è lo stesso soltanto che è tutto qua dentro e si collegherà questo telefono al provider dei servizi ora il provider dei servizi sa che mi sto collegando ma di più sa anche che dominio sto contattando quindi a differenza vostra che non sapete cosa ho aperto qui sul computer fast web nel mio caso in questo caso sa benissimo a quale sito mi sono collegato e poi potrebbe sapere anche di più beh nel scenario base diciamo che fino al 2013-2014 possiamo essere ragionevolmente certi che se io avessi fatto questa operazione nel 2013-2014 il provider saprebbe non solo a quale sito mi sono collegato ma anche quale pagina ho cercato all'interno di questo sito quale pagina ho aperto nel 2013 o nel 2012 in quegli anni lì se io adesso andassi su google e scrivessi il testo di una ricerca il provider saprebbe non solo che mi sono collegato a google ma anche che cosa ho cercato però il mondo a un certo punto è cambiato è cambiato rispetto al 2013 al 2014 soprattutto c'è stato il caso snowden ve lo ricordate ne abbiamo parlato qua sul canale il caso snowden che ha alzato la coperta delle schifezze che l'nsi e la cia facevano sul web e quindi qualcuno è corso in un certo senso ai ripari un po tutta l'industria di internet che è costruito per progettazione proprio by design in maniera molto poco sicura voi sapete che la rete quella che noi chiamiamo internet diciamo non è costruita particolarmente bene ok è costruita un po male era pensata per essere sicura non intrinsecamente ma dall'esterno sicura nel senso che era una conoscenza di quella cosa la utilizzavano una certa classe di persone ed era sicura per quello non perché era disegnata progettata per essere sicura però nella stratificazione archeologica della rete a un certo punto sono nate delle pezze letteralmente delle pezze che tra l'altro tradotto in inglese si chiama patch quindi sono proprio delle pezze che vengono applicate sul vestito ormai tutto scucito un po rotto dell'internet per risolvere dei problemi uno di questi problemi che è stato risolto è stata la mancanza di crittografia nelle trasmissioni nelle trasmissioni ora a un certo punto abbiamo detto no ma non possiamo fare sì che veramente chiunque si metta tra te e il destinatario finale della tua navigazione cioè per esempio tra te tra me e il sito che sto cercando se si mette qualcuno in mezzo che sia qualcuno previsto al centro come la compagnia telefonica o che sia un hacker che riesce a infilarsi all'interno di questo filo che lega me al sito che sto visitando non possiamo far sì che sia così facile intercettare il traffico sapere che stai visitando quel sito sapere che stai inviando quei dati a quel sito pensate per esempio al sito di una banca al sito di una banca ok questa è la nostra banca ok la nostra banca supponiamo che il suo sito sia lì qua c'è il vostro computer ora fino al 2012 2013 quello che succede è che voi aprite sul vostro computer il vostro bel browser browser chiamate il sito della banca www.banca.it lo digitate sul vostro bel computerino passate per il vostro bel routerino che sta a casa vostra che vi ha mandato la vodafone o la o la o la compagnia telefonica che volete la richiesta passa nella grande nuvola del web o meglio per essere più precisi di internet e viene poi in stradata al sito della banca la stessa cosa succede chiaramente e ovviamente anche al contrario cioè cosa succede succede che una volta che voi dite o banca dammi la home page del tuo sito la banca vi risponde e la richiesta torna indietro con una risposta ok la pagina della home page viene mandata attraverso in realtà qua ci sarebbe il router della banca attraverso l'internet l'internet lo manda a voi al vostro router il vostro router lo manda al vostro computer che fa apparire qua sopra la home page della banca ora succede che avete la home page davanti beh però non potete ancora operare sul conto corrente giusto dovete inserire normalmente nome utente e password ecco quello che succede a questo punto è che voi mandate indietro quando scrivete nome utente e password in quei due bei campi bianchi che aspettano solo di essere riempiti mandate indietro di nuovo come abbiamo fatto la prima volta qui una seconda comunicazione al server no che contiene però anche nome utente e la password perché qua quando arrivano sul server della banca il server deve confrontare nome utente e password che avete mandato con quelli che ha nel database se gli torna tutto e quindi è giusto vi risponderà poi di nuovo con la pagina del vostro conto corrente altrimenti vi deve sbattere fuori bene questo è un esempio banale per spiegarvi una cosa fino a un certo periodo della storia tutte queste comunicazioni o molte di queste comunicazioni avvenivano perfettamente in chiaro in chiaro cosa significa in chiaro significa qualcosa di assolutamente devastante significa che la compagnia telefonica che stava al centro o qualsiasi altra persona in grado di porsi a metà in qualche punto in queste comunicazioni poteva tagliare e intercettare quello che era il traffico e il traffico gli sarebbe apparso in chiaro cioè in linguaggio diciamo in plain text gli sarebbe uscito il vostro nome utente e la vostra password questo chiaramente è molto pericoloso perché questo tipo di attacco che si chiama man in the middle significa che qualcuno ci si infila a metà e lo può fare anche molto facilmente dopo vi farò degli esempi molto pratici che sono quelli che utilizzano per esempio le compagnie che vendono servizi di vpn per vendervi delle vpn che molto spesso possono servire ma molto più spesso non servono a nulla e oggi capiremo il perché bene cosa succede però a un certo punto succede che questo meccanismo funzionava praticamente per tutto per google per esempio andavate su google e certo non c'erano il nome utente e la password della banca chiaramente però c'era che ne so la vostra ricerca qualcuno poteva mettersi in mezzo e sapere cosa cercavate su google o magari che tipo di mail inviavate anche questo traffico che può essere intercettato in chiaro a un certo punto però è successa una cosa è successa una cosa e cioè che ha iniziato a diffondersi una pezza particolarmente interessante una pezza particolarmente utile che oggi è praticamente lo standard oggi è qualcosa che noi diamo per scontato per scontato ma che scontato non è che scontato non è perché è qualcosa che è arrivato dopo che si è appoggiato sopra la l'internet come era prima questa roba si chiama tls transport layer security se potete se preferite adesso non ci interessa fare distinzioni di lana caprina potete trovarlo anche sotto il nome di ssl o probabilmente avrete più dimestichezza con quest'altro termine https cosa significa beh questo è quello che succede quando per esempio andate su www.google.it o.com o quello che volete quello che succede è che ormai praticamente per default tutti i siti o quasi tutti i siti ma certamente tutti i siti importanti tutti i siti fatti da aziende serie o da soggetti istituzionali seri vi re indirizzano su un protocollo leggermente diverso non voglio star qui a spiegare che cos'è un protocollo prendete per buono quello che dico comunque vi re indirizzano in una modalità leggermente diversa che si chiama non più http una volta era http e basta due punti slash slash www ma https cioè con un livello che quella s aggiunta che sta per sicurezza security secure in realtà significa che tornando nello scenario di prima e cioè nel nostro bello schema di prima tra il vostro computer e la banca qualcosa è cambiato o meglio la comunicazione segue esattamente lo stesso schema cioè c'è una una richiesta che viene inviata passa attraverso il vostro router ok eccolo qui passa attraverso l'internet passa attraverso poi il router della banca fino ad arrivare al server della banca solo che succede una cosa molto importante prima che questo messaggio parta e faccia tutto questo giro e tutto questo cinema e cioè a un certo punto prima di partire viene criptato viene criptato cosa significa significa che il vostro computer prende una parte del messaggio e prima di mandarla attraverso la rete cioè prima ancora di farla uscire da lì la cripta cioè la rende illeggibile cosa vuol dire criptare significa sostituire un testo fatto di numeri e lettere un testo qualsiasi quindi il testo che volete con altri numeri e lettere che apparentemente sono casuali e che quindi rendono quel testo illeggibile all'occhio umano ma che sono decriptabili con una chiave in realtà c'è un algoritmo matematico ora non voglio parlare anche qui di metodi di cifratura non voglio addentrarmi in quello che è in realtà in qualcosa di realtà molto bello e affascinante ma che riguarda l'ambito della matematica voglio semplicemente semplificarvi le cose e farvi capire una cosa molto semplice se voi avete un testo magari non lo so pensate a un messaggio di guerra che deve essere inviato ad un generale che con il suo bel cappello da generale che non so come è fatto ma io me lo immagino così deve decidere se attaccare non attaccare il nemico voi non volete che sia intercettato questo messaggio allora lo fate passare attraverso un algoritmo matematico che tecnicamente si dice lo sminchia tutto non è leggibile da qualcuno che lo intercetta lo inviate al generale che però ha in mano qualcosa di speciale che capirete dal disegno che cos'è non so che non lo capite ma è una chiave è una chiave è una chiave per decriptare ok solo grazie a questa chiave quel messaggio può essere letto molto semplice molto banale chiunque si mette in mezzo non può sapere quello che c'è scritto ok bene allora a un certo punto nella storia per tornare infine al nostro disegno succede che viene introdotto su larga scala e si può fare perché ci sono dei soggetti enormi come google come facebook come twitter che nel momento in cui decidono di iniziare ad utilizzare una tecnologia trainano tutti in special modo google perché google ha un potere di influenza sui siti web altrui che facebook e twitter non hanno e cioè il potere di dirgli se non ti adegui ti penalizzo e faccio in modo che il tuo sito nelle ricerche man mano scivoli sempre più indietro e infine non esca più nei risultati di ricerca questo lo può fare google e lo fa quindi utilizza il suo potere commerciale per obbligare tutti a utilizzare e a implementare sui propri siti web questo protocollo che nel caso del web è l'https bene succede quindi che siccome tutti i messaggi chiamiamoli messaggi ma diciamo tutte le comunicazioni che partono dal vostro computer vengono criptate prima di partire in questo viaggio pericolosissimo nei meandri della foresta della rete succede che chiunque si infili a metà di questo percorso l'unica cosa che otterrà intercettando le vostre comunicazioni è un bel messaggio che dice che voi state visitando il sito della banca e questo lo può sapere perché conosce il dominio banca.it supponiamo e tutto il resto è un messaggio sminchiato completamente sminchiato e questo vale qualsiasi cosa questo messaggio contenga e questo vale per chiunque sia in mezzo tra voi e il sito della banca in questo caso tutti tutti compresa la compagnia telefonica che vi fornisce il servizio questo è importante è una protezione alla comunicazione strutturale e come si dice end to end quindi da capo a capo da capo a capo significa che il metodo di cifratura è garantito dall'inizio dall'origine l'origine è il vostro computer questo qui questo qui garantito da qui end uno il primo il primo capo del cavo fino all'altro end to end cioè le chiavi per scambiarsi questi messaggi ce li hanno questi due soggetti e basta quello che fa la compagnia telefonica in fondo non necessita di conoscere il contenuto di quel di quel chiamiamolo pacchetto per ora di dati alla compagnia telefonica non interessa sapere cosa c'è dentro lei si limita a fare il lavoro del postino perché se volete un'altra metafora questo è esattamente il lavoro del postino io prendo quello che ho da dire lo metto dentro una bella busta dico alla mia compagnia telefonica che sulla sul retro della busta c'è scritto il destinatario lei la porta e l'unico che è in grado di aprire questa busta è il destinatario perché le chiavi per aprirlo e alla compagnia telefonica chiunque altro sta qua in mezzo non interessa e non deve interessare il contenuto della busta gli interessa solo sapere dove portarla ecco quindi che quello che succede è che da quegli anni lì 2014 più o meno da lì in poi inizia progressivamente ma anche esponenzialmente a diffondersi il protocollo https in generale il tls quindi si inizia a diffondere l'utilizzo anche culturalmente di metodi di cifratura per lo scambio di dati diventa molto importante soprattutto alla luce di quello che è accaduto con snowden e di quello che è accaduto con quei con quei casi insomma che hanno fatto tanto parlare bene a questo punto potreste dirmi ma il problema è risolto voglio dire la cosa importante per me è che nessuno sappia quali sono i codici della mia banca che nessuno sappia che cosa ho cercato su google perché magari sono affari miei che messaggi privati ho scambiato sulla chat di facebook beh se non ci fosse il protocollo https e io mandassi un messaggio su facebook a uno di voi chiunque sta in mezzo tra me e voi è chiaramente in grado di leggerlo invece in questo modo lo posso criptare incapsulare inviare e decriptarlo soltanto al suo arrivo ma in realtà non abbiamo risolto granché non abbiamo risolto tutto non abbiamo risolto tutta una serie di cose non abbiamo risolto il fatto che comunque io posso avere accesso potenzialmente se mi metto in mezzo a dei dati importanti cioè sapere che cosa visitate che siti visitate quando come certo non nel dettaglio non posso sapere cosa cercate su google non posso sapere cosa comprate su amazon ma posso sapere che visitate amazon e google rispettivamente due volte e tre volte al giorno in questi orari e ci state questo tempo è già un qualcosa di interessante e soprattutto tutti questi log cioè l'elenco dei siti che visitate lo storico delle vostre visite sono salvati per legge peraltro per dieci anni se non sbaglio sui server del vostro provider uni ma anche sui server dei siti che visitate in qualche caso e quindi in ogni momento qualcuno può venire dopo un anno dopo due anni e dire ah ah ma andrea lombardi cosa ha visitato quel giorno a quell'ora magari per capire se ero in casa magari per capire se ero in un altro punto del mondo e dovete anche sapere e questo è importante non possiamo darlo per scontato visto che qua parliamo un po' a tutti senza partire dal presupposto che abbiate particolari conoscenze tecniche dovete sapere che quando voi vi collegate con il vostro computer a internet sia che lo facciate col computer fisicamente sia che lo facciate magari con uno smartphone attraverso una sim telefonica beh la compagnia telefonica che sta in mezzo non sa certamente chi fisicamente c'è dietro quel computer non sa se davvero dietro questa tastiera c'è andrea lombardi o un suo amico che è passato a casa sua in quel momento però sa che quella richiesta di connessione che quella richiesta e quel messaggio inviato sul web appartiene al contratto che ha firmato andrea lombardi per attivare la sua linea telefonica e non solo parte esattamente da quella casa da quel router e quindi viene instradato da lì e questo viene diciamo fatto in maniera molto semplice perché praticamente tutti sanno che ogni volta che voi vi collegate il provider vi assegna quello che chiamiamo tutti comunemente indirizzo IP ok adesso senza entrare in tecnicismi questo è un indirizzo ma diciamo che è un insieme di numeri ok non ci importa diciamo che è come se fosse facciamo così un numero di telefono temporaneo che cambia ogni volta che vi collegate che cambia ogni volta diciamo che magari vi spostate col cellulare da una parte all'altra d'Italia o del mondo ma che ogni volta che vi viene assegnato quel numero identificativo la compagnia telefonica che vi dà quel servizio si segna sul suo grande registro che quel numero da quell'ora a quell'ora l'hanno prestato a voi e quindi da quel momento in poi quel numero che viene sparso per la rete ogni volta che voi fate una richiesta consapevole o inconsapevole viene salvato da tutti quanti vi rende identificabili perché chiunque sappia che voi che quel numero ha richiesto una pagina sul suo sito o un accesso al suo servizio internet a quell'ora può potenzialmente risalire alla vostra identità contattando la compagnia telefonica che chiaramente non è che risponde al primo che passa però risponde per esempio alla magistratura risponde per esempio alla alla giustizia quindi la giustizia può dire compagnia telefonica dimmi questo numero a chi apparteneva a quest'ora e la compagnia telefonica risponderà ad Andrea Lombardi da quest'ora a quest'ora tutto quello che ha fatto quell'IP è ascrivibile alla sua connessione e poi è affare della giustizia quindi capite che sì certo l'introduzione del TLS dell'HTTPS ha risolto tutta una serie di problemi ha risolto tante cose ha corretto delle problematiche che erano mastodontiche ma in realtà continuiamo a non essere anonimi se per anonimato intendiamo poter andare fuori sulla rete fare cose con la garanzia che nessuno possa risalire a noi ed è da qui sfruttando questa tutto sommato vulnerabilità che è nata la fortuna di tanti youtuber e anche di tante aziende che offrono i servizi come le vpn o se preferite i server proxy insomma tutta una classe di servizi che spesso a pagamento vengono vendute e spacciate come la panacea per ogni male della per ogni male della del web non anonimo ma è davvero così ne parliamo tra un attimo e però prima di andare avanti voglio leggere che ci sono dei commenti perché questa parte insomma è fondamentale perché vi rende ragione almeno di base sul funzionamento della rete quindi voglio essere sicuro che l'abbiate capita e poi andiamo avanti ovviamente andiamo avanti a bomba perché ci sono una serie di cose da dire allora vedo che mi state chiedendo cose anche che non c'entrano tipo i password manager eccetera non stiamo parlando di quello adesso andate andiamo con ordine e vedrete che facciamo tutto le tecniche per l'animato possono trasformare questo l'ho già letto prima ma vediamo dopo vediamo dopo oggi si fa didattica a distanza esattamente fantastica lavagna sì è l'ipad ricordavo scrivi male come scrivevo io se mi ricordo metus allora usare una qualsiasi password manager è sicuro non c'entra qua però ne parleremo poi man mano il famoso man in the middle esatto il problema è che il pacchetto parte sempre comunque dal computer di casa tua o peggio dal tuo cellulare perciò a meno che non vai in un internet point a fare quello che vuoi fare se uno vuole sapere da dove è stato generato e inviato quel pacchetto lo può fare cambia solo il tempo che ci impiega e invece non è così e ti farò vedere perché non è così non è assolutamente così non c'è un modo per difendersi in modo definitivo stiamo solo rendendo il lavoro più difficile delle persone che cercano di farlo no non è questo che intendevo dire questo deve essere chiaro perché come in evoluzione la sicurezza a pari passo ci sono gli hacker che spesso sono quelli che ti vendono la sicurezza non c'entra non è così non è così adesso vi farò vedere vi farò vedere vi spiegherò perché la sicurezza dei limiti grazie mille primus cacator per il rinnovo il problema è quando qualcuno trova la chiave ecco questa è una buona domanda per esempio cosa succede quando qualcuno trova la chiave del famoso generale succede che crolla tutto chiaramente se qualcuno trova la chiave è chiaro che quel messaggio sarà decifrabile da chiunque se lo trovi davanti anche in forma criptata ma questo non è assolutamente verosimile perché non è verosimile perché quella chiave a meno che chiaramente non la ceda o non se la perda fisicamente il generale nell'esempio è una chiave matematica cioè non è non dovete immaginarvela come quel cilindro rotante ve lo ricordate non al cilindro per criptare dell'ottocento non è una cosa così semplice è una formula matematica che permette di criptare decriptare i dati e per riuscire a forzare una chiave di quel tipo potrebbero volerci milioni di anni di calcolo quindi non è così semplice non è assolutamente così semplice la chiave di fatto oggi per la nostra trattazione la consideriamo inviolabile e guardate che non stiamo facendo un'approssimazione particolarmente sbagliata ok con tutto che oggi va di moda parlare di computer quantici e altre amenità tecniche bellissimo fantastico però ad oggi consideriamo queste chiavi inviolabili perché è un'assunzione corretta diciamo praticamente corretta con un computer tipo google quantico non ci impieghi troppo ecco sgombriamo il campo da queste cose che sono al momento fantascienza certo possiamo raccontarcela quanto volete ma arriviamo alle cose serie perché queste qui sono favolette al momento quando poi sarà si vedrà ma intanto sono veramente favole favole lasciate perdere non posso oggi parlare di argomenti per di criptografia magari lo faremo ma sono assunzioni sbagliate quelle al momento stiamo parlando di tracciamento immagino oggi che se ti arrivo ovvio che se ti arrivano in casa è ben poco da fare non c'entra niente l'interpol è stata autorizzata a usare algoritmi automatici per prevenire reati informatici quindi il sistema end to end potrebbe essere compromesso già dal prossimo anno no anche questo non c'entra non è matematicamente fattibile capisci viene criptato qui e decriptato là punto e rimaniamo su questo sulle cose realistiche per favore queste cose le ho vissute le ho viste le superiori ma comunque molto interessante va bene va bene va bene va bene va bene va bene adesso andiamo avanti andrea se si potesse approfondire anche il discorso sicurezza password un altro giorno come vpn la compagnia telefonica continua a sapere chi si collega adesso ci arriviamo adesso ci arriviamo concordo sulla quasi inviolabilità attuale delle chiavi ma mi preoccupa forse come vengono scambiate queste chiavi magari possono essere intercettate allora se volete che ve lo spieghi facciamo così perché non voglio che ci sia un'ambiguità su questa cosa dovete darmi un po di fiducia matematica perché non non ho il tempo di farvela vedere la possiamo farlo ma un'altra volta adesso vi basti sapere questo come funzionano le chiavi allora gli algoritmi per criptare sono tendenzialmente asimmetrici quindi significa che ci sono due chiavi per ogni capo dell'end to end una chiave privata che conosce soltanto quel soggetto e una chiave pubblica ok una chiave pubblica che quindi conoscono tutti cosa succede quando a chiamiamolo a vuole mandare mandare un messaggio a b ora la chiave verde è quella pubblica va bene pubblica pubblica e quella rossa è la chiave privata privata allora non c'è scambio di chiavi è il segreto della cifratura end to end è questa non c'è scambio di chiavi quindi non può essere che uno si perde una chiave perché quella pubblica è pubblica per tutti quella privata è privata per tutti nel senso che ognuno se la tiene e non la fa vedere mai a nessuno per nessun motivo come funziona funziona che a a un messaggio a un messaggio che facciamo così facciamo rosa ok questo è il messaggio da inviare che contiene x lo devo mandare a b cosa faccio vado a prendere la chiave pubblica di b che è pubblica quindi la conoscono tutti quanti la utilizzo con l'algoritmo per la cifratura quindi l'algoritmo è una funzione sostanzialmente che in ingresso riceve una chiave e il testo del messaggio da criptare e in uscita mi dà il messaggio criptato che chiamiamo così tutto sminchiato ok e qua c'è una funzione che farà delle cose perfetto quindi io non devo chiedere la chiave privata di b uso quella pubblica inserisco nell'algoritmo la chiave pubblica insieme al messaggio ok la chiave pubblica insieme al messaggio e ottengo un testo cifrato invio a b il testo cifrato quando b riceve il testo cifrato però dice che cazzo è sta roba non capisco che cosa volevi dirmi io non lo so che cazzo c'è scritto qua dentro ma è criptato allora lo devo decriptare e c'è solo un modo per decriptarlo cioè la chiave pubblica non può essere usata per decriptare il messaggio non può essere usata per decifrare il messaggio perché l'algoritmo è asimmetrico vai in una direzione ma non nell'altra ok vai in una direzione ma non nell'altra per decifrare il senso del messaggio è obbligato a usare la chiave privata che però conosce solo lui ok la conosce solo lui non l'ha mai dovuta mandare a nessuno per farsi mandare quel messaggio criptato perché tutti lo criptano con la sua chiave pubblica quando il messaggio gli arriva però lo può aprire solo con quella privata se prova ad usare quella pubblica non ottiene nulla ottiene un altro messaggio senza senso deve usare la chiave privata con il suo algoritmo quindi riuscirà di nuovo a leggere quello che c'è scritto qua dentro e a ottenere il messaggio originale senza che nel processo possa succedere nulla di disastroso come uno che si perde le chiavi l'unico modo per perdersi le chiave è che questo b in qualche modo o venga attaccato da fuori e gli venga sottratta la chiave privata o lui volontariamente la cede a qualcuno quando b dovrà comunicare ad a con una maniera sicura guarderà la sua chiave pubblica criptera il messaggio e a quando l'avrà ricevuto potrà decriptarlo soltanto con la chiave privata è chiaro come funziona spero di sì e dovete credermi sulla fiducia nel senso che dovete credermi che esiste una funzione matematica che funziona così e questo ve lo posso assicurare se cercate su wikipedia ce ne sono tantissime ne trovate quante ne volete ovviamente è preoccupante che se qualcuno utilizza i suoi dispositivi ci vai di mezzo anche tu se non lo hai fatto te ok va bene ammetto che sono rimasto indietro sulla sicurezza informatica ma è anche difficile starci dietro 15 anni fa sta roba non c'era sì 15 anni fa e gli algoritmi asimmetrici di cifratura c'erano e come ok va bene perfetto 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 oh beh e beh chiaro ok allora vedo che è chiaro per tutti possiamo andare avanti possiamo andare avanti cosa succede a questo punto succede che le connessioni funzionano così ok va bene e funziona così per altro anche whatsapp il famoso algoritmo di cifratura end to end significa questo significa che ognuno di voi su whatsapp ha due chiavi una chiave privata una chiave pubblica quando io voglio mandare un messaggio a piadina nucleare il mio telefono cerca la chiave pubblica di piadina nucleare cripta il messaggio e glielo invia con la certezza che potrà leggerlo solo lui perché è l'unico che ha la chiave privata che chiaramente è accoppiata a quella pubblica cioè non è che possono essere create a caso vengono generate insieme la chiave privata e la chiave pubblica proprio perché sono matematicamente legate da questa funzione che è l'algoritmo di cifratura bene a questo punto cosa succede che siamo a punto e a capo siamo a punto e a capo perché nonostante tutta questa sicurezza ci sono delle parti di messaggio che sono in chiaro per esempio il dominio che vado a cercare ma in generale diciamo il destinatario di ogni mia richiesta di ogni pacco che invio sul web è noto e soprattutto sappiamo che chi sta in mezzo la compagnia telefonica sa che se ti visito e che quindi ci sono una serie di falle su queste falle su queste falle si basa il business di chi vende per esempio le vpn e non solo le vpn anche magari altri servizi come appunto i server proxy cosa succede succede che una persona che per le sue ragioni vuole essere anonimo online è bombardato da questa pubblicità o in generale diciamo ha bisogno di più sicurezza è bombardato da queste pubblicità che gli dicono compra il nostro servizio attaccati alla vpn perché se tu magari vai al bar o vai in un hotel e ti agganci alla rete pubblica di quell'hotel o di quel bar può esserci un hacker che collegato alla stessa rete guarda quello che fai tecnicamente si chiama sniffing cioè è il tirare su col naso no non tanto di quello di lapo il can ma digitalmente quindi se noi ci rimettiamo nel nostro piccolo schemino e andiamo in un bell'hotel a più piani l'hotel ci mette a disposizione il suo wifi come spesso accade ma il wifi non è solo un punto di connessione alla rete globale internet e anche un punto di connessione ad una rete locale cioè io mi collego il wifi tutti colleghi il wifi quell'altro pure siamo tutti in rete tra di noi e abbiamo un accesso comune al web perché la rete funziona così no l'internet è una rete di reti quindi ci sono ci sarà il router del wifi e poi ci sono diversi nodi che siamo tutti noi collegati al wifi dell'hotel bar quello che volete tutto questo poi è collegato al web e ognuno andrà poi insomma ci sono una serie di router adesso non importa al sito che ha richiesto ok bene ora se uno di questi nodi cioè se uno degli altri che si trova in quell'hotel o in quel bar o dove volete è un hacker ok magari uno di questi è un hacker lo cerchiamo in rosso se uno di questi è un hacker potrebbe essere in grado di mettersi in mezzo è abbastanza semplice in realtà è molto banale no se ci pensate provate a pensarci siamo tutti in una stanzona o in un hotel o dove cazzo volete voi in una piazza e tutti ci colleghiamo fisicamente a quel dispositivo la wifi è chiaro che usiamo tutti lo stesso protocollo cioè non è che il mio computer si collega solo a quel dispositivo perché sanno parlarsi solo tra di loro no il wifi qualsiasi trovate in giro potete collegarvi a qualsiasi il fatto che è compatibile tutti i dispositivi sono compatibili tra di loro il punto di forza del fatto che avete un'interfaccia comune allora è chiaro che posso mettermi qua e come io sono in grado di comunicare a quel wifi posso intercettare quello che voi inviate a quel wifi no siamo nello stesso spazio e siamo anche nella stessa rete e in realtà è molto semplice sniffare quello che succede e sniffando quello che succede ho sbagliato scusate questo signore sniffando cioè per esempio so quello che questi siete voi questi qua verdini siete voi so quello che il signor verdone sta facendo sulla rete o meglio lo intercetto ma lo intercetto in che punto lo intercetto esattamente come nel nostro schema iniziale faceva il famoso man in the middle cioè quello che si trova per l'appunto qui ok quindi lo sto intercettando allo stesso livello della compagnia telefonica se voi nel vostro hotel vi siete collegati al sito della banca il hacker vedrà la stessa cosa che vede la compagnia telefonica e cioè non vedrà niente di fatto vedrà semplicemente il fatto che voi vi siete collegati a www.banca.it non vedrà il vostro nome utente non vedrà la nostra password perché se non avete una banca di non so quale paese ma neanche il più disastrato dell'africa credo quella banca avrà una connessione https ok e quindi è tutto criptato quell'hacker non potrà intercettare il vostro traffico sulla banca non potrà intercettare il vostro traffico con google saprà che vi siete collegati a google ma non cosa state cercando saprà che vi siete collegati a facebook ma non i messaggi che avete inviato quindi su questo primo equivoco si basa parte grandiosa della comunicazione di chi vi vende le vpn e vi dice in quella condizione se tu compri la mia vpn io ti proteggo ma tu sei già protetto dall'https ok questo lo dovete sapere certo non sei protetto se vai su un sito http e quindi per questa ragione indipendentemente o no che siate a casa in un hotel in un bar in una piazza io vi sconsiglio sempre di affidarvi e di affidare le vostre comunicazioni a siti web su protocollo http se le informazioni sono preziose cioè se un blog è in http e dovete lasciare un commento chi se ne frega se qualcuno lo intercetta tanto è destinato già a diventare pubblico se però un sito che vi chiede dati sensibili non ha l'utilizzo del protocollo https dovete preoccuparvi come fate a saperlo semplice ad esempio vado su google cerco quello che voglio vedete che qua in alto questo è safari ma possiamo usare quello che volete accanto all'indirizzo esce il lucchetto il lucchetto se ci cliccate vi dice safari sta usando una connessione criptata su www.google.com e addirittura potete vedere il certificato ecco ormai browser praticamente tutti vi segnalano se la connessione non è sicura quindi ve lo dicono se non c'è l'https altri grandi autori diciamo del passaggio all'https sono stati proprio i produttori di browser perché segnalando all'utente in rosso questo sito non è sicuro a volte vi sarà capitato di vederlo significa guarda zio che questo sito non sta usando una connessione dati criptata cioè l'https e quindi ve lo segnala di base nel 2021 lo sapete se state andando su un sito che non ha una connessione criptata con il livello diciamo di https e quindi lo sapete bene che cos'è questa benedetta vpn come funziona che mestiere fa che cosa fa cosa serve perché ce la spacciano per la panacea a tutti i mali e soprattutto può aiutarci ad essere più anonimi e finalmente arriviamo al cuore di questa puntata cioè la vpn può aiutarmi a raggiungere un grado superiore di anonimato e la domanda come al solito è rispetto a chi cioè voglio essere anonimo rispetto a chi perché la prima domanda da farsi è da chi devo proteggermi se già il traffico è in gran parte criptato se già in gran parte il traffico non può essere intercettato ci sono altre persone o soggetti da cui dovrei avere l'esigenza di proteggermi e di rendermi anonimo beh sì sì che ci sono certo che ci sono ci sono e come altri soggetti per esempio potreste non fidarvi della compagnia telefonica stessa potreste pensare che un giorno potrebbe utilizzare contro di voi quella informazione potreste non voler far sapere o comunque diciamo rendere facilmente accessibile magari ad un sistema di giustizia che voi quel giorno avete cercato su google come realizzare una macchinetta del caffè di cartone tanto per non dire una bomba no ovviamente potete usare la vostra fantasia potreste pensare che non sia opportuno magari far sapere ad una compagnia telefonica che in ogni momento può essere interrogata dalla giustizia che voi siete molto interessati ad un certo caso di giudiziario magari magari fate un mestiere sensibile magari fate i giornalisti o magari siete amministratori delegati di un'azienda che potrebbe anche non essere così importante nel tessuto economico ma degli interessi anche non troppo grossi economici magari con l'estero magari con paesi che sono notoriamente poco liberi e dove il governo anche utilizzando l'arma dei servizi segreti aiuta gli imprenditori magari paesi particolarmente dirigisti magari la cina tanto per nominarne uno e magari paesi che potrebbero avere interesse a sapere cosa cosa voi vi scambiate con gli altri ora in questa sede non analizziamo la sicurezza informatica dal punto di vista del dispositivo quindi rimane aperto il campo ancora del fatto che qualcuno può scaricarvi un troian dentro il tablet il telefono il computer e quindi prendere il controllo della macchina e qui non c'è connessione sicura che tiene se uno riesce a mettere le mani sul vostro computer potete mettere tutti i protocolli di sicurezza che volete potete usare tutte le chiavi che volete non c'è nessuna chiave che tiene chiaramente però stiamo analizzando la sicurezza dell'anonimato a livello di connessione quindi fuori dal dispositivo dalla frontiera del dispositivo in poi fino al server finale potrebbe essere questo magari particolarmente vero la esigenza di proteggersi in quei paesi che sono già percepiti come meno liberi io per mia inclinazione se devo fare determinate cose e per mia tutela e sicurezza che badate bene non sono cose illegali non sono cose di cui dovrei vergognarmi utilizzo delle precauzioni perché so che potrebbe essere possibile che dietro taluni siti web magari si nasconda qualcuno di diverso rispetto a chi vorrebbe far credere di essere mi spiego meglio supponiamo che io faccia un bel sito tutto bello colorato pieno di caramelle e zuccherini che proprio ti viene l'acquolina in bocca lo vuoi visitare a te che sei così goloso di quelle caramelle di quello zucchero ma in realtà io non faccio il caramellaio io in realtà sono 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 un malintenzionato sono uno che ti vuole attrarre per magari conoscere le tue abitudini di visita sapere su quel sito cosa cerchi perché dovete capire una cosa è vero che l'https che vi ho mostrato poco fa vi protegge end to end ma è anche vero che da questa parte beh tutto viene decriptato quindi se il sito è quello della banca io ragionevolmente della banca mi fido anche perché c'ha i miei soldi in mano sono costretto a fidarmi della banca e mi tiene per le palle e mi fido quindi se vado sul suo sito e faccio un bonifico a qualcuno non posso pretendere che lui non sappia che l'ho fatto io anche perché è una banca quindi sa chi ha fatto quel bonifico no ma se il sito anziché essere quello di una banca è quello di qualcun altro se il sito a differenza di quello della banca non è un sito che prevede che io mi loghi la banca per sua natura deve sapere chi sono per farmi entrare giusto ma un sito magari di un blog che parla di un caso giudiziario particolarmente controverso io vorrei magari visitarlo senza che lui conosca il mio indirizzo di connessione magari dietro non c'è un appassionato che scrive ogni tanto della sua passione ma c'è qualcuno che ha interesse a conoscere chi sono e vuole sapere chi è così ossessivamente interessato a quel caso giudiziario magari quel sito è un'operazione della procura l'assassino non si è ancora trovato ci sono delle indagini in corso e il procuratore ha questa idea geniale ma facciamo un blog che parla di questo omicidio irrisolto e poi cerchiamo di capire se c'è qualcuno che ossessivamente continua a venire a visitarlo magari scambia anche non lo so delle email con il suo proprietario finto chiaramente perché è sempre la procura magari fa delle operazioni un po strane con questo sito web e noi tac lo becchiamo subito conosciamo il suo indirizzo ip andiamo dal provider ci facciamo dire scusa 192168 di chi è a quest'ora lombardi a egli piondiamo in casa ci avevate mai pensato la procura si senza dubbio l'ho pensata io l'ha pensata anche il procuratore state tranquilli ecco ci sono mille motivi per cui uno non deve essere preoccupato soltanto di quello che succede a metà strada ok ma uno si deve preoccupare anche di quello che succede cazzo in fondo alla via perché non è sempre il sito della banca col classico esempio che ci facciamo è mal conto corrente attenzione che te lo piallano non è solo quello ci sono mille altre cose che uno vorrebbe magari proteggere ok come fare allora ci sono dei modi certo ci sono dei modi ora qualcuno potrebbe pensare che basti andare sul suo browser ok vi faccio vedere sapete tutti i browser hanno new private window nuova finestra privata o qualcuno la chiama finestra in incognito no perché i browser hanno la finestra in incognito serve per andare in incognito c'è scritto così è una finestra privata quello che faccio lì sarà privato no toglietevelo dalla testa quel privato in incognito non significa nulla se non quanto segue significa soltanto che se siete loggati su un sito quando lo visitate con la finestra normale vi troverete sloggati con la finestra in incognito e vuol dire anche che quello che fate nella finestra in incognito non finirà nella cronologia del vostro browser nella finestra principale quindi quelli che di voi hanno le abitudini di andare a guardare i siti zozzi ma hanno un computer condiviso con più persone magari usano la finestra in incognito e va bene a quello scopo è perfetto se non volete farlo sapere ai vostri diciamo coinquilini o chi condivide il computer con voi però se lo scopo è non farlo sapere a nessuno là fuori non ci siete tanto non ci siete tanto perché non è quello quello di cui dobbiamo parlare adesso è un'altra cosa e cioè è come facciamo sì che anche il sito non riesca a risalire a noi che l'end point cioè il destinatario finale delle mie trasmissioni di dati non sappia chi sono io e voi direte come si può fare non è possibile perché se è vero che tu invii una richiesta a un sito per ottenere una pagina è anche vero che quella richiesta deve tornare indietro con la pagina come fa mandartela se non sa chi sei deve sapere chi sei per forza o quantomeno in mezzo ci deve essere la compagnia telefonica che sa chi siete entrambi e che quindi fa da tramite e se sa chi siete entrambi finché c'è qualcuno che sa chi c'è ai due capi del telefono anche se ai due capi del telefono ci sono due persone che non si conoscono chi è in mezzo e lo sa significa che quella punto centrale è attaccabile è un punto vulnerabile e quindi e quindi è un punto dal quale si possono ricavare tutte le informazioni conosci il punto centrale che conosce tutti conosci tutta la comunicazione come si fa ci sono tendenzialmente due modi che vi presento oggi uno si chiama vpn virtual private network e l'altro si chiama tor tor sta per the onion routing cioè instradamento a cipolla tradotto in italiano si chiama instradamento a cipolla di che si tratta ve lo spiego tra un secondo con una sostanziale premessa con una sostanziale premessa attenzione perché questi sono strumenti che come un coltellino svizzero come dicevo all'inizio potete usare per sbucciare le patate oppure potete piantarveli nel fegato pensando di essere il rambo della situazione ma finendo nel migliore dei casi in ospedale o nel peggiore direttamente al creatore ok bene allora la promessa che ci fa chi ci vende le vpn è te lo risolvo io hai paura di queste cose hai paura che la procura della repubblica non la comunicano così però vuoi essere anonimo sulla rete guarda mi dai ma uno straccio di soldi io ce l'ho e la pago la vpn io ho nord vpn l'ho pagata 70 euro o 90 euro per tre anni tre o quattro anni di servizio ho pagato una volta anni fa non ho ancora ripagato perché scade l'anno prossimo mi sembra e ho pagato 70 euro e la uso e la uso che cos'è una vpn una vpn è una virtual private network detto così non vuol dire niente significa che è una rete privata virtuale cos'è che è virtuale il fatto che è una rete o il fatto che è privata ecco il fatto che è privata è una rete privata virtuale è meglio tradurlo così rete privata virtuale perché diciamo l'aggettivo virtuale si riferisce al privato perché in realtà è una rete privata che però viaggia su internet voglio semplificarvela ancora di più significa che è uno strumento che vi permette di collegarvi ad un computer che sta in un altro posto del mondo però non come se fosse un computer su internet ma come se fosse un computer che sta dentro la vostra rete domestica come se ce l'aveste vicino e a questo computer potete mandare delle informazioni che nessun altro può conoscere e dirvi e dirgli a questo computer di fare delle cose per conto vostro e di mandarvi i risultati di quelle commissioni che gli fate fare facciamo prima a farvelo vedere sulla carta perché ormai con gli schemi ci siamo e avete capito come funziona allora c'è la vostra bella casetta sbagliato penna mannaggia voi siete nella vostra bella casetta eccola qui con il vostro cazzutissimo computer eccolo qui perfetto avete bisogno di visitare questo sito web di cui non siete certi della sicurezza quindi avete paura che magari dietro ci siano le cose macchinose e complottistiche che vi ho spiegato prima quindi non potete fare la cosa che fareste cioè andare dal vostro isp e cioè la vodafone di turno insomma il provider non potete andare direttamente da lui e dirgli o zio mi fai visitare quel sito perché quello che succederebbe è che certo la vostra connessione è https ma abbiamo appena fatto vedere che non ci basta perché noi abbiamo un'altra esigenza cioè di essere anonimi rispetto al punto finale all'end point non rispetto al al trasporto ok questo lo diamo per scontato qui siamo anonimi però non ci basta ok non ci basta vogliamo essere anonimi anche rispetto all'end point cioè vogliamo che questo non sappia che noi ci chiamiamo diciamo come lo vogliamo chiamare sto pensando se dargli un ip oppure no diamogli il nome anzi diamogli il numero di telefono ok 0 3 5 22 4 6 ok e questo è il famoso chiamiamolo ip che ci identifica noi normalmente certo la connessione è sicura però lui sa che questo è il nostro numero di telefono e quindi se qua dietro c'è qualcuno che potenzialmente può andare dall'esp a chiedergli chi è questo numero di telefono saprà la nostra identità non ci va bene questa cosa allora dobbiamo trovare un altro sistema e chi ha pensato le vpn questo sistema lo ha trovato lo ha trovato e ha detto facciamo una bella cosa facciamo una bella cosa io creo un servizio esterno quindi che sta su internet qua lo chiamiamo vpn che avrà la particolarità di agire in nome e per conto di chi usa questo servizio ok quindi adesso tu vuoi visitare questo sito va bene ti colleghi al tuo isp ma non gli mandi più non gli mandi più l'informazione che vuoi visitare questo sito direttamente non serve che la mandi a loro mandagli l'informazione che vuoi parlare con noi digli che hai un messaggio da comunicare direttamente a noi vpn e quindi il percorso diventa questo ve la sto semplificando un po e mi rendo conto che la sto semplificando un po però al tuo isp gli dici guarda ho da mandare una busta alla vpn e la vpn la riceve questo è tutto criptato quindi l'isp sa sa attenzione l'isp sa che io sto inviando una busta alla vpn ma il contenuto della busta è criptato e quindi non lo può conoscere lo potrà scartare aprire quel pacchetto solo la vpn quando lo apre nella busta c'è scritto scusa vai a chiedere quella pagina a quel sito poco sicuro e rimandamela indietro e quindi la vpn facendo da tramite questo potrebbe essere http o https non ci interessa più perché perché quello che succede che quando poi il sito diciamo magari pericoloso manda indietro la pagina seguirà lo stesso percorso lui conosce solo che la vpn ad avergli fatto la richiesta non sa chi ci sta dietro ovviamente quindi manda indietro magari manda indietro anche su http quindi senza connessione sicura ma non importa più che la connessione sia sicura tra questi due punti perché tanto abbiamo isolato qua anzi abbiamo già isolato qua l'identità della fonte questa torna indietro a questo punto è criptata sto usando https ma è sbagliato perché qua potrebbe essere un protocollo diverso dall http ma non fa niente è per farvi capire la vpn lo manda all'isp comunque criptato anche se l'ha ricevuto in chiaro dal sito pericoloso quindi se il sito pericoloso non aveva l'ssl o l'https glielo manda comunque indietro all'isp in chiaro l'isp lo rimanda chiaramente criptato alla fonte quindi che cosa succede chi chi va dall'isp dall'isp va qualcuno magari e gli chiede scusa ma questo computer cosa ha fatto oggi cosa può rispondergli l'isp può rispondergli soltanto che ha parlato con una vpn ma non può sapere che cosa gli ha detto non può sapere neanche che gli ha detto di visitare questo sito con il punto di domanda perché lui non lo conosce lui conosce solo la fonte del messaggio e il destinatario ma il primo destinatario e cioè la vpn conosce il fatto che io ho mandato qualcosa da qui a qui basta null'altro il sito il sito cosa conosce conosce che qualcuno una vpn gli ha chiesto una pagina ma lui ha i dati per identificare la vpn ha il numero di telefono della vpn ok non ha il numero di telefono della sorgente e quindi si ottiene una totale isolamento tra chi ha mandato la richiesta e chi l'ha ricevuta ok non si può risalire dall'uno all'altro e a questo punto siamo sicuri se noi siamo nel nostro gioco mentale l'assassino che visita tutti i giorni il sito falso del caso giudiziario e la procura vedrà tante connessioni magari più volte al giorno da una vpn ma non saprà non saprà ovviamente da dove arrivano cioè c'è in mezzo questo sistema che garantisce l'anonimato ora se siete arrivati fino a qui se siete arrivati fino a qui e avete capito come funzionano queste cose dovreste avere una domanda sola dovreste avere una domanda sola perché dovreste aver capito una cosa e cioè c'è un anello debole in questo schema c'è un qualcosa che può saltare e far cadere tutto il castello dell'anonimato beh certo che c'è è ovvio che c'è è chiaro come il sole cos'è è la vpn perché la vpn sa che l'utente siete voi anche perché la pagate non fa questo servizio gratis quindi avete un account sul servizio di vpn e in ogni caso lo sa perché conosce il vostro ip perché la richiesta gli viene passata insieme al vostro numero di telefono sa chi siete voi e sa cosa avete chiesto quindi questo è un anello debole adesso abbiamo semplicemente spostato la nostra fiducia dalla compagnia telefonica al gestore della vpn ok la vpn potrebbe essere interrogata dalla procura la procura non è stupida sa come funzionano le vpn e quindi dice non vado dalla vodafone o dal fast web o quello che vado dal gestore della vpn e io ti fotto perché io sono più furbo di te ma che credevi di fottermi ma per chi mi hai preso c'ho scritto giorgetto no non ce l'ho scritto giocondo e siamo fottuti quindi cosa abbiamo ottenuto abbiamo ottenuto una cosa che tecnicamente si chiama tunnel criptato ok perché se volete potete vedere questo meccanismo come un tunnel cioè il fatto di usare una vpn vi garantisce un è un po come se diciamo togliendo di mezzo tutto quello che voi ottenete è questo tunnel qui che bypassa tutto quello che c'è in mezzo e vi porta direttamente al sito web o al servizio che volete contattare tutto quello che passa qua dentro è criptato chiunque vi intercetti a metà non può sapere quello che c'è e anche se qualcuno vi intercettasse nell'ultimo stadio cioè questo se qualcuno si mettesse qua in mezzo potrebbe conoscere certo il contenuto dei pacchetti e quindi cosa c'è nelle pagine ma non potrebbe mai risalire a chi è che le ha generate perché qua l'informazione non c'è se invece vi intercettano qui sanno da chi arriva la richiesta ma non sanno cosa contiene perché non è ancora stata decrittata viene decrittata sulla vpn ok e se vi intercettano qui è esattamente la stessa cosa che intercettarvi qui quindi non cambia niente c'è di mezzo solo l'isp quindi è a tutti gli effetti un tunnel criptato chi vi parla di tunnel criptato ha usato la giusta metafora è corretto il problema però è che dovete fidarvi di chi ha costruito il tunnel perché chi ha costruito il tunnel ha le chiavi del tunnel ora questo è un problema noto attenzione è un problema notissimo non sto dicendo niente di fuori dal mondo non sto dicendo nulla di sconvolgente bisogna fidarsi della vpn ora quando è ragionevole fidarsi della vpn in tanti casi per esempio se non è la procura quella da cui vi state difendendo ma è magari molto più semplicemente uno scellerato gestore di sito web di cui non vi fidate ma non perché pensate che c'è dietro lo stato il governo la giustizia perché non vi fidate perché secondo voi quel sito non è sicuro avete paura che possa ricollegare comunque la vostra identità e i vostri movimenti ma senza avere il potere di andare a chiederli con forza di legge senza poter mandare la finanza dalla vpn o dall'isp questo è un ottimo modo di risolvere il problema anche senza fidarsi della vpn perché vedete il fatto di mettere in chiaro il vostro numero di telefono che vi dà il provider quindi il vostro ip comunque non è una buona idea è un livello di sicurezza molto basso nel senso che non è necessariamente vero che servano i carabinieri per ricollegare un ip alla vostra identità si può fare molto più semplicemente cioè vi spiego siccome il vostro numero di telefono beh magari cambia sì ma non con questa frequenza siccome oggi magari vi siete collegati a facebook a twitter a un blog di un vostro amico e adesso a questo sito qua pericoloso qualcuno potrebbe aver carpito il vostro numero di telefono temporaneo cioè il vostro ip in qualche altro punto e quindi confrontandolo con quello che riceve sul suo sito può risalire alla vostra identità beh capite quindi che questo ip in generale è abbastanza facile da rintracciare o addirittura ancora più semplice geograficamente è facilissimo sapere un indirizzo ip da quale zona geografica del mondo proviene quindi non è poi un'informazione da lasciare così a cuor leggero se avete dei dubbi sulla sicurezza di quel sito mi capite no ok però se non avete paura dello stato della polizia di chi con la forza può andare della vpn e dirgli dimmi chi è passato di qui e chi è andato su quel sito potete tranquillamente fidarvi o non fidarvi tanto non cambia niente e utilizzare questo sistema va benissimo per raggiungere questo livello di anonimato se però questo non vi basta la vpn vi dà delle garanzie vi dice se andate su un sito per esempio andiamo proprio su nord vpn grazie mille bradipo 86 andiamo su nord vpn andiamoci insieme pure nord vpn the best ovviamente poteva essere qualcosa di meno del meglio no tutti sono il meglio in questo mercato come in tutti gli altri è fantastica per la velocità e sicurezza vediamo un po features come funziona è sicura vi ho spiegato come funziona è veloce strict no logs policy strict no logs policy cioè la vpn vi dice attenzione non ti devi fidare di me cioè se la procura la polizia viene mi chiede ehi ma chi è quello che è andato su quel sito ok se mi chiede chi è questo questo qui che è andato su quel sito quel punto di domanda io sono obbligato a rispondere la vpn te lo dice la legge mi impone di rispondere però però attenzione non è un problema perché tanto io non so cosa rispondergli perché io vedi tutte le cose che tu mi chiedi di fare per conto tuo tutti i messaggi che tu mi chiedi di mandare e instradare al posto tuo io mica li tengo io li cancello non ho i log non li conservo qualcuno arriva a dire in qualche in qualche diciamo canale youtube pubblicizzando queste vpn grazie mille grazie mille bradipa per aver regalato l'abbonamento grazie qualcuno arriva a dire che le vpn tipo nordvpn e altre che vengono pubblicizzate usano server senza hard disk per farti capire che proprio non possono neanche salvare le cose ora fa ridere e se state ridendo fate bene come fa a essere un server senza hard disk anche soltanto uno per farci girare il sistema operativo ce lo dovrà avere no bene e infatti è così ma non è tutto qui diciamo che non potete fidarvi al 100 per cento che questi signori abbiano una no log policy perché a in tanti paesi del mondo per alcune cose sono obbligati a tenere i log cioè non ci sono cazzi sono obbligati a tenerli b ve lo dicono anche loro se voi scendete fino in fondo alla pagina e andate e andate dove c'è la privacy policy la potete aprire è la privacy policy del sito sì ma anche dei servizi quindi andate sul servizio nordvpn sto facendo questo esempio non perché ce l'abbia con nordvpn ripeto io la uso la pago e mi ci trovo bene però dovete capire che limiti hanno queste tecnologie ok e loro vi dicono che si salvano delle informazioni tecniche statistiche per il server load quindi il carico del server si salvano username e timestamp dell'ultima sessione quindi lo username quindi chi siete e a che ora avete concluso l'ultima sessione che vabbè non importa tanto anche il provider ce l'ha connectivity information cos'è per prevenire abusi e per essere diciamo in grado nelle richieste di 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 chargebacks quindi di rimborsi non non valide noi registriamo cosa l'utente se l'utente ha utilizzato il servizio negli ultimi 30 giorni solo quello sicuri non lo so bisogna fidarsi però già qualcosa ti dicono che lo tracciano poi altre cose l'applicazione perché ci si collega tramite è un software da scaricare si installa sul computer si installa come app sul telefono e lo usate è semplicissimo adesso ve lo faccio vedere si salva da altre informazioni application diagnostics che cos'è boh è in forma aggregata e anonimizzata per identificare i problemi salvano dei dati quali boh data data non si sa quali non dice quali anonimizzata come in che senso anonimizzata in senso diciamo asimmetrico cioè davvero anonimizzata cioè che non puoi davvero risalire alla fonte a chi le ha generati quei dati o anonimizzata alla carlona è perché anonimizzare può dire tante cose può dire tante cose dati di telemetria non so cosa intenda in questo caso informazioni statistiche sull'attività del tuo account search item rating and content view events di quali eventi ricerca di cosa cosa vi salvate boh device information informazioni sul dispositivo identifiers o questo è importante informazioni identificative sul dispositivo significa per esempio il codice di serie del telefono o del computer magari l'indirizzo ethernet il cosiddetto mac address in alcuni casi potremmo registrare l'identificatore probabilmente l'email del tuo dispositivo mobile per ragioni di marketing o analitiche o di analisi di statistica insomma e beh questo già inizia ad essere interessante ma se voi andate avanti trovate anche altre cose interessanti se per esempio abilitate dei servizi in più che la vpn vi propone per essere più sicuri e cioè che controlli che i file che scaricate siccome passa tutto attraverso quel tunnel criptato siano sicuri magari fa un antivirus scanning cioè un'operazione di verifica che sia libera da virus e però si salverà informazioni su quei file insomma siete davvero così sicuri di essere al sicuro con un servizio di questo tipo secondo me non ci si può fidare io tendenzialmente direi non mi fido di nessuno quindi parto dal presupposto che la vpn non abbia la politica no logs che dichiara ma abbia una politica oltre che logs abbia una politica che si salva tutto ma non significa per questo motivo che la butto via o che non la uso significa che conosco i suoi limiti e quindi nel nostro schema significa che se io so che quella vpn la utilizzo per mettermi al sicuro dal gestore del sito però accettando che quel gestore del sito sia un malintenzionato ma che non sia qualcuno che ha il potere di spada dello stato la uso con una certa tranquillità e disinvoltura non solo la uso anche per quello per cui viene usata nel 99,9 per cento dei casi e cioè siccome la vpn adesso ve lo faccio vedere mi consente di posizionare dove voglio il mio punto di connessione mi spiego la vpn funziona così non vi ho fatto vedere si mette in mezzo alla vostra connessione come vi ho detto prima ma questo fisicamente dove sta in italia in germania negli stati uniti nella repubblica democratica del congo dove cazzo si trovano lo decido io ebbene sì perché la vpn offrendo un servizio serio di questi computer che fanno questo mestiere ne ha tanti nel mondo e li ha posizionati in praticamente ovunque e io posso scegliere quale utilizzare per accedere a questo servizio il che è molto comodo è molto comodo perché spesso i siti web come ad esempio netflix quando vi ci collegate vi danno contenuti diversi a seconda dell'area geografica da cui proviene la connessione quindi in italia vedo determinate serie tv e in spagna ne vedo altre negli stati uniti ne vedo altre ancora è un utente italiano che vuole vedere quel film o quella serie tv che è disponibile soltanto negli stati uniti non lo può fare perché netflix guarda attraverso l'ip da dove arrivate e vi dà soltanto le serie per cui ha pagato i diritti di copyright nel vostro paese ora non è illegale ma è una violazione contrattuale utilizzare la vpn per fare questo quindi vi sconsiglio di farlo ma si può fare si può dire alla vpn fai finta passa dagli stati uniti fai passare tutti i miei dati da los angeles così netflix penserà che io mi sto collegando da los angeles e mi darà le serie che vedrei se fossi là si può fare adesso vi faccio vedere come ve lo faccio vedere con vp con nord vpn perché io quello ma guardate di una banalità sconcertante il computer è questo l'avete visto ora se voi andate su nord vpn pagate i vostri i vostri ma non voglio far pubblicità loro e non ho neanche un codice sconto da darvi ce l'hanno gli altri youtuber ecco vedete 3 a 3 euro al mese per due anni ma se voi andate a seguire gli youtuber seguitene uno che ci sta simpatico seguite rick du ferr seguite rick du ferr lui per esempio è sponsorizzato da vpn mi sembra di aver visto qualche volta oppure sinergo oppure tutti tutti prendetene uno a caso il 99 per cento è sponsorizzato da vpn da nord vpn vi danno un codice sconto usate il loro così il loro ci guadagnano siamo tutti contenti e voi avete uno sconto io non ce l'ho quindi non posso darvelo ma non me ne frega un cazzo non è questo il punto il punto è che la pagate ancora meno se vi serve cosa succede succede che voi vi pagate registrati registrate pagate mettete il codice di rick sinergo chi vi pare e ottenete lo sconto vi registrate ottenete così un account su nord vpn la scaricate è un'applicazione quando l'avete scaricata vi trovate davanti questo e l'errore c'è sta sempre ora giusto certo adesso lui considera che la rete di casa mia è sicura e invece si sta connettendo ok è molto semplice il funzionamento c'è un menu a tendina che è uguale anche nel caso utilizzate il telefono lo smartphone quello che vi pare e dal menu a tendina potete scegliere una serie di cose in special modo in quale paese del mondo volete essere localizzati quindi andate qui e gli dite che siete che volete sembrare in giappone e lui si collegherà dal giappone adesso fai capricci per chi li fa ogni volta magari a volte ci mette un po collegarsi ecco si è collegata boom protected vedete adesso sono collegato dall'italia quindi il mio tunnel criptato passa dall'italia e poi spesso ci sono altre opzioni nord vpn ce l'ha potete ottenere un ip dedicato non ci interessa double vpn che detta in breve significa passare da due punti anziché da uno che è una cosa che non ha nessun senso se usate una vpn così cioè vi fa passare da 1 2 3 ok per arrivare a quel sito fate due salti anziché uno in questo senso in questo momento non ha senso vi spiego dopo come funziona thor e capirete perché poi può alob spustare perché il problema qual è che netflix ha imparato a distinguere chi arriva dalla vpn chi no chi arriva dalla vpn non gli da più le serie che voleva allora loro si inseguono netflix trova un modo per identificarvi il servizio di vpn vi trova il modo per offuscarvi e quindi ha anche la possibilità di collegarsi in modalità offuscata per far sembrare che non siete connessi da una vpn funziona una volta su tre ok basta questo è non c'è altro da dire con questo sistema a prova di casalinga di voghera senza offesa vi potete collegare ad una vpn ottenendo quello che vi ho appena descritto e quindi un livello superiore al nulla di anonimato ma non certo a prova di procura non certo a prova di stato che vuole sapere voi cosa state facendo e adesso quello ve lo racconto ma tra un secondo fatemi leggere se c'è qualche commento questo è il momento di fare le domande se le avete se le avete come faccio a scoprire se ho dei trojan sul mio mac chiede fracazio è una buona domanda allora io direi che l'approccio migliore è prevenire anziché curare quindi l'approccio migliore è piallare tutto e aggiornare tutto all'ultimo sistema operativo i trojan sfruttano nove volte su dieci vulnerabilità del sistema operativo ne possiamo parlare però in realtà non è esattamente l'argomento di questa puntata diventa troppo lunga e già rischiamo di non farcela ne parleremo più avanti va bene qualcuna altri si accodano a questa domanda cercherò di rispondervi ma non oggi anche perché dipende vabbè già abbiamo detto su mac possiamo lavorarci un po su sta cosa lo possiamo fare sì posso farlo una cosa un po tecnica ve lo metto sul pantoprazzolo club questo magari creo un corsetto sul pantoprazzolo club ma diciamo che cambia il sistema operativo al sistema operativo eccetera eccetera io ho la vpn inclusa nel mio pacchetto dell'antivirus nord o nella stessa cosa sì è la stessa cosa surf shark nord vpn ce ne sono mille è la stessa cosa oltretutto vorrei spiegarvi una cosa non si sa mai chi ci sia dietro queste aziende che è una cosa che dovrebbe accendervi qualche lampadina non si sa chi c'è dietro nord vpn è una società di panama con dei soci che stanno da boh boh chi c'è dietro altro problema di sicurezza chi c'è dietro magari c'è dietro la cia io non lo so non lo posso sapere magari c'è dietro l'nsa magari c'è dietro un servizio segreto di chissà quale non lo so chi c'è dietro magari sono tutte bravissime persone bene intenzionate non lo so però non è trasparente né lei né nessun altro servizio non c'è un servizio di vpn un po è anche connaturato al tipo di business che oggettivamente è problematico non c'è un servizio di vpn di cui si conosca con esattezza chi sono i soci e chi eroga il servizio quindi già questo dovrebbe accendervi qualche lampadina ok adesso le vpn uno se la può costruire anche in casa ma non è questo lo scopo della puntata cazzarola sono nel pallone qualche passaggio duro c'è stato ma se siete arrivati fino a qui è già ottimo quindi la vpn ci aiuta ad essere anonimi danni sì nel senso che ti ho spiegato però e giustamente già qua qualcuno dice se la procura o qualsiasi altro ente chiedesse le informazioni alla vpn e infatti è quello il punto debole vi ho risposto la vpn può dare i dati di chi è stato deve dare tutti i dati che ha a disposizione nel momento in cui lo chiede dell'autorità giudiziaria chiaro che se quella vpn è un server che sta in vietnam ci deve essere dall'italia una rogatoria internazionale quindi ci sono mille complicazioni che possono rendere più difficoltoso anche ad uno stato accedere a quei dati attenzione se presupponiamo la buona fede della vpn ma comunque potenzialmente il rischio che ci arrivino alla fine c'è il rischio che ci arrivino c'è bene abbiamo fatto una mini scatola cinese esatto diciamo che con una vpn aggiungo un ente che le autorità o chi vuole sapere dove contattare per risalire deve contattare per risalire a me sì esatto però è un ente riconoscibile un ente che tutti sanno dov'è gli bussano alla porta e sanno dove si trova adesso vi mostrerò un altro metodo che si chiama tor di onion routing l'instradamento a cipolla che è una cosa geniale è un sistema geniale non vedo l'ora di farvelo vedere perché è proprio ben strutturato tor e aggiunge un livello diverso di sicurezza fidarsi della vpn è come fidarsi di whatsapp dopo la chat control esatto 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 però attenzione non è come pulirsi il culo con i coriandoli come dice qualcuno molto elegantemente no dipende dallo scopo può essere ottimo come servizio con le premesse che ho fatto prima nel pc lo puoi chiamare anche ssd ma l'ssd è un solid state drive è sempre un hard disk cioè il concetto è che serve sempre la stessa cosa è sempre la stessa cosa a proposito di fiducia in cina ci sono frequenti offerte di vpn caserecce privati che chiedono meno soldi rispetto ai servizi più noti che costano al mese tanto quanto il piano della dati sim ecco per esempio se siete in cina dove il vostro problema è il governo locale la vpn la usano tutti in cina ed è ottimo così perché la vpn ti consente di bypassare quello che in cina si chiama the great firewall cioè il grande firewall il controllo del governo cinese una volta che tu sai che la vpn non è controllata dal governo sei piuttosto sicuro che ti puoi fidare vedete lo scopo lì non è dare al al nostro dell'esempio personaggio ossessivo che non vuole passare per l'assassino un modo per stare sicuro rispetto alle indagini giudiziarie in cina il problema è non posso andare su google o sull'ansa magari sull'ansa se sto in cina devo usare una vpn questo tunnel criptato in cina consente di non far sapere al great firewall che sito state visitando ecco perché dalla cina con la vpn riescono ad accedere ai siti che in realtà sono censurati in cina perché la vpn garantisce questa questo sistema che cripta tutto che non rende disponibile al provider e quindi al governo neanche l'indirizzo internet che stiamo visitando perché è criptato anche quello è in chiaro solo il fatto che sto comunicando a un server che è il server della vpn non so netflix prime video non funziona tramite vpn anche lì dipende da come la usi se la imposti correttamente spesso funziona come si accede ai contenuti del pantoprazzolo pagando costa 8 euro al mese oppure 80 euro all'anno perché è un nostro social network privato ve lo faccio anche vedere se volete eccolo qui eccolo qui è un nostro social network privato è un modo per sostenere il canale qui ci metto dei video ci sono dei corsi ci sono delle cose www.pantoprazzolo.club e trovi il sistema per accedere costa 8 euro al mese oppure 80 euro all'anno è qui che caricherò questa puntata quindi non la potrete recuperare su youtube ed è qui che caricherò anche altre cose che mi avete chiesto come per esempio appunto un mini corso su come capire se il vostro mac è infetto o meno da un trojan vado un attimo avanti però con i commenti se nemmeno lo stato sa chi sono quelli della vpn tanto meglio no lo stato sa sempre tutto hai ragione hanno sgominato tantissimi criminali sono con un'app dell'fbi che si è infiltrata nel mondo della criminalità vorrei chiederti per questa puntata sarà disponibile su youtube no sarà solo sul pantoprazzolo club e su twitch per i 30 giorni che rimane ma solo per gli abbonati dunque 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 non vanno nel pomeriggio che cosa anche per windows il corso non lo conosco windows se ho un certo numero di vpn mi collego a cascata diventa oneroso per chiunque se poi risiedono stati diversi magari con problemi politici tra loro è una buona strategia ma ne ho una migliore vuoi vedere allora ho una strategia migliore che si chiama in stradamento a cipolla sicuramente tanti di voi la lo conoscono o l'avranno sentito nominare il suo nome è tor cosa ho fatto ho sbagliato tasto ecco il suo nome è tor vedete che infatti il simbolo è la cipolla è la cipolla proprio perché è il senso di questo sistema e adesso vi faccio vedere come funziona questo sistema fantastico veramente geniale geniale allora torniamo al nostro diciamo schema di prima ci siete voi con il vostro bel computer ok c'è il vostro provider ok e c'è il servizio finale che volete contattare di cui non siete certi della sicurezza ottimo abbiamo visto che possiamo andarci direttamente possiamo andarci quindi direttamente dal mio provider ok oppure c'è l'alternativa della vpn ok però abbiamo visto che questo è un anello debole allora come si fa ad eliminare questo anello debole beh c'è un modo in effetti e il modo è distribuire le informazioni come sempre guardateci guardate il caso come come la democrazia funziona perché distribuisce il potere se voi distribuite le informazioni ottenete un ottimo risultato e cioè che se nessuno ha in mano tutti i pezzi del puzzle nessuno sa qual è il disegno e si può fare sì si può fare allora funziona così in stradamento a cipolla si chiama tor e in onore del suo colore usiamo il viola allora voi questa volta fate una bella cosa diversa andate tramite il vostro provider su questo sistema che si chiama tor lo chiamiamo per semplicità tor questo sistema è un primo server ok che fa una cosa è a conoscenza di tutti i simpaticoni come voi che credono nel progetto tor ci sono tanti altri domini verdi come voi che in giro per il mondo hanno dei computer e questi computer siccome tutti ci tengono all'anonimato online li mettono a disposizione del progetto lo chiamiamo tor 1 tor 2 tor 3 puntini 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 tor ennesimo ennesimo ce ne sono infiniti supponiamo ok tanti computerini come il vostro che appartengono a chi a chiunque voglia utilizzare questo progetto e voglia mettere il suo computer a disposizione potrebbe essere una persona bene intenzionata grazie per i cento panto prazzoli o di nuovo un malintenzionato o magari la cia o l'n6 ve lo dico già da subito sì la cia e l'n6 hanno diciamo messo a disposizione tanti nodi tor si chiamano nodi ognuno di questo è un nodo perché adesso lo capirete perché bene torniamo a noi ora questo server quando voi vi collegate la prima volta vi dice ti ho assegnato per semplicità supponiamo t1 t2 e t3 e questi sono i tre nodi che adesso tu utilizzerai per questa connessione ok bene ora il resto è abbastanza semplice e funziona più o meno come con la vpn ma con delle differenze che sono assolutamente sostanziali vediamo un attimo se riesco a fare una cosa ecco qui li ingrandiamo e li usiamo in maniera un po diversa ok allora voi avete adesso la l'informazione che dovrete far passare la vostra connessione per questi tre nodi ora questi tre nodi si conoscono tra di loro no assolutamente ognuno di loro conosce soltanto il successivo e il precedente in questa catena ok sa soltanto che è diciamo in collegamento con il primo o il secondo ognuno di loro sa anche però se è un nodo di ingresso o se è un nodo di uscita adesso capirete il perché quello che succede è che voi criptate il vostro messaggio la vostra connessione insomma la vostra richiesta di vedere questo sito qua la criptate e quindi la mettete in una bella busta con un lucchetto cioè una busta che è criptata ma come è criptata questa busta è criptata in una maniera un po particolare allora questo computer è l'unico che conosce tutti i nodi che userà quindi questo computer sa che userà t1 t2 e t3 lo sa lui e basta perché ognuno degli altri sa soltanto che è in collegamento con il precedente e il nodo successivo ognuno di questi tre computer ha una chiave una chiave diversa per semplicità gli diamo dei colori la prima chiave la facciamo verde ok la seconda chiave la facciamo arancione perfetto e la terza chiave la facciamo rossa ok ora chi conosce queste tre chiavi beh naturalmente le conosce tutte solo lui cioè il computer principale il vostro computer quello da cui vi collegate gli altri come abbiamo già visto conoscono il nodo precedente il successivo e ognuno di loro ha solo una chiave quella lì il primo alla verde il secondo all'arancione e il terzo ha il rosso allora voi supponiamo che abbiate una richiesta da fare ok la richiesta è questo messaggio qui che è in chiaro chiamiamolo messaggio in chiaro e lo criptate però non lo criptate una volta sola lo criptate tre volte e lo criptate con un ordine preciso prima lo criptate con l'ultima chiave quella rossa poi lo criptate con la chiave arancione che è quella seconda e poi lo criptate in ultima analisi con la chiave verde che è la prima è la prima chiave è il primo nodo ok questo messaggio così composto vedete che è a cipolla e a strati è un messaggio a strati un messaggio a cipolla lo prendete e lo mandate attraverso il vostro internet service provider lo mandate al primo nodo perché il server tor vi ha detto che il primo nodo di connessione è quello a cui dovete indirizzare il punto di ingresso di richiesta bene ora cosa succede se il vostro provider si trova la polizia alla porta e vuole vedere che cosa avete inviato niente perché ha un file un'informazione che è criptata addirittura per tre volte con tre chiavi diverse e non può farsene niente non può farsene niente nessuno può sapere quello che c'è scritto dentro ma questa informazione viaggia noi la selezioniamo la rimpiccioliamo guardate la tecnologia come cosa mi consente di fare e la portiamo qui oh che bello l'informazione raggiunge la prima base ok la prima base ha una chiave ed è la chiave verde la chiave verde apre il primo livello e boom c'è l'informazione ora t1 sa che questo pacchetto criptato arriva dal mio computer quindi potenzialmente se qualcuno lo intercetta ha un messaggio criptato che non può leggere ma sa da dove arriva però il problema è che non sa dove va perché l'unica informazione che ha è che che è scritta peraltro in questo livello arancione è che va a t2 cioè lui sa che questa roba criptata che non si sa cosa contiene arriva da me e sa che va a t2 non sa altro e non lo può sapere perché la destinazione finale è contenuta solo sull'ultimo livello quindi anche se fosse intercettato a questo punto sarebbe inutile conoscere l'informazione a questo punto ha spacchettato t1 ha spacchettato con la sua chiave il livello verde sulla busta arancione trova l'indirizzo di t2 in realtà è questo il momento in cui lui viene conoscenza che questo pacchetto deve essere inviato a t2 allora lo prende ok lo prende e lo sposta e lo sposta e lo manda a t2 t2 avete capito il gioco ha la chiave arancione e lo spacchetta ho esagerato e lo spacchetta anche t2 qualora fosse intercettato ha in mano un messaggio criptato di quindi il contenuto è sconosciuto e sa soltanto che arriva da t1 ma non sa che da t1 a sua volta arriva da qua quindi a meno che uno non possa prendere il controllo di entrambi i nodi che sono geograficamente magari uno in germania l'altra in venezuela e beh non può risalire a nulla e comunque anche qualora intercettasse entrambi i nodi beh non saprebbe il contenuto del messaggio e non saprebbe neanche che questo messaggio è destinato a questo sito qua non lo potrebbe sapere perché questa informazione ancora non c'è ancora non c'è il messaggio però passa di mano perché t2 legge sulla busta rossa che deve mandarlo a t3 t3 lo riceve e finalmente lo spacchetta e ha il contenuto in chiaro cioè il contenuto in chiaro è una richiesta che manda a questo sito che noi riteniamo non sicuro e quindi direte a questo punto questo nodo è vulnerabile e cioè sa cosa sto mandando al sito il che è vero sa cosa sto mandando al sito ma non sa da dove arriva cioè se qualcuno intercettasse questo nodo saprebbe cosa c'è scritto in questo messaggio saprebbe cioè che sito sto contattando e che informazioni sto mandando o chiedendo ma non saprebbe da dove arriva perché per sapere da dove arriva dovrebbe conoscere le informazioni che stanno su t2 ma non gli basterebbe neanche questo dovrebbe conoscere anche le informazioni che stanno su t1 ok quindi dovrebbe craccare e forzare entrambi i nodi per riuscire a risalire al mittente invece sa certamente qual è il destinatario e ovviamente spasta il pacchetto e lo manda al sito che finalmente lo prende lo mangia lo fagocita ok e spedisce all'indietro chiaramente è necessaria una risposta la risposta è fondamentale solo che la risposta verrà criptata all'opposto cioè se prima abbiamo criptato in un verso adesso criptiamo chiaramente nell'altro che ovviamente questo le chiavi sono all'interno e quindi io so che devo fare questo sistema e il pacchetto torna indietro seguendo esattamente lo stesso procedimento inverso in modo tale che la comunicazione in entrambe le vie oltretutto questi nodi cambiano ogni dieci minuti quindi dieci minuti ho t1 t2 t3 poi trovo t9 t7 t23 e cambiano e cambiano e cambiano per maggiore sicurezza la connessione comunque è sicura in entrambi i versi ok questo è tor funziona così tor di ogni di ogni router si possono usare più o meno nodi ma la sicurezza non cambia perché la sicurezza è data dal fatto che se io non conosco contemporaneamente il nodo iniziale o il nodo finale sono sicuro posso metterci neanche 2000 di nodi qua in mezzo ma il fatto è che se uno intercetta l'inizio e la fine mi ha fottuto però deve intercettare l'inizio e la fine per fottermi che è molto difficile è una struttura molto diffusa ok molto diffusa e diffusa intendo dire che ci sono diversi nodi e quindi è molto difficile che uno li intercetti tutti adesso prima di darvi delle informazioni importanti leggo i commenti perché voglierei essere certo che abbiate capito tutti ma siamo sicuri che detto il pantoprazzolo club non ci sia la cia infatti per me la cipolla ci sta hai fatto bene a dirlo grazie per il pantoprazzoli comunque ok ma si sembra la massa di figarra e la matassa di figarra e piccone e non lo so avete capito come funziona tor funziona così è il sistema più sicuro se vogliamo ma ma e qui arrivo diciamo alla parte finale di questa spiegazione poi vi faccio vedere in due minuti come praticamente lo potete usare il problema qual è il problema è che può succedere che questi nodi siano in realtà non di qualche buon intenzionato ma di qualche mal intenzionato e cioè siano per esempio di proprietà della cia dell'nsa di chi vi pare insomma ok può essere può assolutamente essere scusate ecco vedete tipo c'è una domanda a cui va risposto nel momento in cui la risposta arriva cioè torna indietro t1 non conosce sia la risposta che la destinazione di essa no ovviamente no perché perché funziona esattamente uguale ma al contrario vediamo se riesco a fartelo capire e vedere cioè quando torna indietro facciamo così guarda facciamolo allora r abbiamo detto che è criptato con verde arancione e rosso cioè il contrario di prima no al converso perfetto domando al primo nodo il primo nodo sa da dove proviene ecco sa da dove proviene ma non sa dove va ok è uguale è la stessa cosa di prima va qui il primo nodo lo apre impiccioliamo un po matteo consales grazie mille grazie mille va primo nodo spacchetta dice oi bo devo mandarlo a t2 t2 lo riceve spacchetta sa che proviene da t3 ma già non sa più che proviene da questo sito qua non lo sa sa solo che proviene da t3 e che è diretto a t2 a t1 scusami quindi torna indietro viene spacchettato l'ultima volta ecco qua l'informazione t1 sa che arriva da t2 non sa altro sa che arriva da t2 e che è diretto al mio computer e quindi lo rimanda qua in realtà chiaramente questa informazione è anch'essa criptata no perché l'ho dato per scontato ma l'informazione base è già criptata perché sarai su https tendenzialmente o su ssl o comunque la connessione tra te il nodo tor è criptata quindi certo glielo manda in chiaro nel senso che glielo manda in chiaro rispetto al primo protocollo che cripta tutto ssl quello che è di connessione al servo e quindi questo lo prende e lo invia indietro ma anche qui anche su t1 non si sa da dove arriva ok è chiaro quindi è lo stesso identico procedimento fatto a ritroso spero che si sia capito il discorso accennato dell'nsia di un auditorio adesso ve lo dico torno nel sistema che usava anche i mule no quello è una rete peer to peer non c'entra niente anche intercettando però forse ci sarà i mule overtorn può essere anche intercettando t1 e t2 contemporaneamente non dovrebbero arrivare a te perché non possono sapere che il dato in chiaro che a t3 è lo stesso che è un dato cripto esatto esatto hai capito perfettamente ho un dubbio su come il sito possa recaptare in ordine per restituirmi la risposta il sito sa l'ordine dei nodi devono sapere l'ordine dei nodi per tornare indietro non l'ordine dei nodi allora è un po complesso però l'ordine dei nodi in realtà non è un ordine dei nodi è un codice che è quel loop quel circuito lì quindi sanno a che circuito appartiene quella connessione il circuito ogni nodo sa di appartenere un certo circuito ok quindi non è no non è noto tra i punti tra i nodi di essere nello stesso circuito ma è noto il circuito in cui sanno in cui si trovano non vorrei entrare troppo in tecnicismi comunque se ci pensi la chiave metti che tu la con è contenuta nell'ultimo livello le tre chiavi lui può criptare tutto quanto e mondarlo indietro sapendo qual è il codice del circuito a cui inviare il pacchetto come mai si può accedere solo da torre city onion perché usano un protocollo diverso t1 e t3 sì e anche t1 e t2 uguale ah no se ti riferivi a t1 e t3 no perché proprio perché tu sai che il pacchetto è quello cioè nel momento in cui viene intercettato e la condizione pericolosa è se viene intercettato il nodo d'ingresso il nodo di uscita salta tutto salta tutto proprio perché deve tornare indietro la risposta salta tutto proprio perché è facile mettere in relazione i due nodi finali ok non può essere diversamente esatto ok perfetto perfetto chiaro allora qual è il problema il problema è che come vi ho detto c'è anche la cia che magari mette i o i servizi segreti del vostro paese chi volete perché perché il problema è questo voi potete essere i più furbi di tutti i più intelligenti ma magari non siete così intelligenti non voi che mi ascoltate ma in generale no è chiaro che c'è un problema cioè se io uso tutto questo cinema adesso dico una cosa banale e stupida però se io uso tutto questo cinema per poi andare a chiedere questo sito che magari è facebook.com questo sito io mi collego con tora facebook dove poi devo mettere nome utente e password e quindi vengo identificato voi capite benissimo che siete degli scemi anche perché se qualcuno intercetta l'ultimo nodo va a puttane come si dice tecnicamente tutta la garanzia che l'ultimo nodo sappia chi è il destinatario della richiesta ma non il mittente perché non lo saprà dalle informazioni che ha dai pacchetti ma di fatto lo saprà perché voi vi state logando a facebook col vostro nome e cognome cioè tor garantisce l'anonimato e la sicurezza di quel dato che viene inviato certo lo garantisce ma quel dato contiene poi all'interno le vostre informazioni quindi siete dei ciula e avete fatto saltare il sistema ora se siete fortunati l'ultimo nodo non è nessuno di malevolo magari non salverà le vostre informazioni e non si interesserà di chi siete ma magari invece l'ultimo nodo vuole salvarsene quelle informazioni quindi se usate tutto questo sistema ultra sicuro per poi spargere le vostre informazioni in chiaro siete dei cretini chiaramente cioè state vanificando tutto quanto il sistema tutto quanto il sistema sta perdendo di senso quindi l'anonimato questo per dire con un esempio stupidissimo che nessuno farà però l'anonimato ha senso ha senso se io non devo scambiare informazioni che mi identificano perché se le informazioni che voglio proteggere in sé mi identifica è chiaro che stiamo perdendo sostanzialmente tempo cioè se questo sito io non lo considero pericoloso tutto questo probabilmente non avrà senso ok e quindi anche qui anche qui se volete utilizzare saggiamente la sicurezza partite dal presupposto che i nodi che incontrerete non sono tutti buoni ma ce ne sarà qualcuno di cattivo allora la domanda è l'informazione in chiaro senza conoscenza del mittente che viene inviata al sito web finale di per sé è pericoloso se se la trova in mano qualcuno che è malintenzionato se la risposta è sì anche questo livello anche questo livello della sicurezza non vi potrà aiutare certamente tutto questo è più sicuro rispetto al caso di prima sito civetta fatto dalla procura che vi vuole fottere e voi che volete visitarlo senza essere identificati qua è molto più sicuro che con la vpn perché qua non c'è nessuno a cui andare a bussare alla porta la procura non potrà mai sapere da chi andare avrà l'ultimo indirizzo ip e basta basta se gli altri nodi tra di loro non si conoscono nessuno potrà risalire alle altre porte a cui bussare e il vostro provider saprà soltanto che vi siete collegati a un server tor ma non saprà nulla di quello che gli avete inviato non saprà niente di quello che transita di lì e il percorso che farà non lo saprà non lo potrà sapere e quindi vi tutela da quel punto di vista ma chiaramente anche questo ha un limite ha un limite se l'informazione che devo scambiare è di per sé sensibile e mi identifica è chiaro che tutto il lavoro è ovviamente vanificato ora negli ultimi dieci minuti poi ce ne andiamo finalmente a mangiare io mi ordino una pizza sì me la merito me la merito mi ricordo mio compagno di scuola che balbettava in maniera unica che faceva le telefonate nascondendo il numero è tipo fantocci fantocci e lei come faceva il nord cosa cazzo faceva l'olandese boh vabbè c'è una serie molto bella sull'anonimato su youtube aclog ok non la conosco io devo andare grazie per questa live a woman va bene ciao l'ultima cosa ultima cosa no non c'è un controllo di qualità dei nodi perché è libero per definizione chiunque può partecipare e quindi chiunque può partecipare non ci sarebbe neanche un modo diciamo di di fare diversamente ok ultima cosa come funziona ora la vpn che vi ho fatto vedere prima torniamo al computer un attimo è un un'applicazione che voi installate ve l'ho fatta vedere ok no scusate vi faccio vedere anche l'interfaccia diciamo vi voglio chiarire una cosa questa interfaccia questa applicazione della vpn è come si dice system wide cioè vedete io posso anche graficamente andarmi a scegliere dove collegare in queste nord vpn no e system wide cioè cosa significa che se io apro safari in automatico sta passando da qui dalla vpn se io apro spotify in automatico anche se apro spotify anche spotify passerà dalla vpn se qua avessi zoom l'applicazione zoom o skype o quello che vi pare insomma qualsiasi applicazione uso passa dalla vpn perché è in default system wide cioè vale per tutte le connessioni del computer e a livello proprio di connessione generale ok stessa cosa sul telefono e installate la vpn la attivate tutte le app passano per la vpn da quel momento in poi tutte passano da lì ora si può ottenere lo stesso risultato con tor si può ottenere lo stesso identico risultato con tor ma è complesso è molto difficile non lo trattiamo qui non ci interessa tipicamente quello che si fa è scaricare una cosa che si chiama tor browser ok del progetto tor tor project punto org aprite il sito scaricate si giustamente meteos fa notare che poi potresti addirittura integrare la vpn sul router quindi senza neanche bisogno di avere l'applicazione qua direttamente il mio modem router di casa si collega alla vpn passa da internet sempre tramite la vpn ve lo sconsiglio perché comunque dovete considerare che tutte queste cose rallentano la connessione la vpn rallenta poco ma rallenta tor è lentissimo perché magari passate da un nodo che è il computer nello scantinato dell'equivalente di vostro zio sfigato che con il saio predica l'informatica libera e ha questa passione capite quindi che è molto lento va usato solo quando è necessario chiaramente ora anche tor può essere utilizzato system wide chiaramente forse anche a livello di nodo di connessione ma non ci importa la cosa che si usa e che vi consiglio perché lo userete poche volte realisticamente è scaricare il browser c'è per windows mac linux android qua non lo vedete per ios ma in realtà c'è un browser consigliato da dal project ok che si chiama onion browser e ha questa vediamo se riesco a farvelo vedere questa icona che vedete viola qua sotto se avete ios usate questo se riusciamo a far sì che questa ok ce l'ha fatta se vede la mia faccia è finita non la vedete vabbè quella lì l'avete vista quella lì viola col cerchio violetto non è diciamo indicato sul sito ufficiale ma è comunque supportato ufficialmente non è non è ufficiale però la potete scaricare lo scaricate lo installate io ce l'ho qua per motivi di tempi televisivi l'ho già installato tor browser l'aprite lo aprite si apre un browser un browser che è una versione modificata di firefox credo e quando cliccate su con poi ci sono delle impostazioni se volete andatevele a vedere adesso non abbiamo il tempo ma non è importante perché così come esce come lo installate è già come ve l'ho descritto il resto sono finezze che nella maggior parte dei casi non servono cliccate su connect lui va a contattare i nodi e boom vi sbatte dentro il motore di ricerca predefinito è duck go potete cercare che ne so ansa vedete che è un po lento cerca 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 ed ecco adesso io mi sto collegando dall'ansa passando per nodi tor ok dopodiché questo browser e questo sistema è quello che viene utilizzato anche per altre cose compreso navigare il famoso dark web no tutti quei siti del web sommerso che sono raggiungibili peraltro solo tramite tor ci sono tutta una serie di siti che sono raggiungibili solo tramite tor e che contengono le cose più assurde le cose peggiori che la mente umana può concepire ci sono e ci sono anche cose buone per la verità è ma in realtà sono quei famosi siti in cui si compra droga in cui si commissionano omicidi in cui c'è la peggio pedopornografia che il mondo abbia mai potuto immaginarsi e ci sono tutte queste cose qui proprio perché la sicurezza intrinseca di questo sistema di questo protocollo consente di fare qualsiasi cosa con un grado di anonimato veramente molto elevato veramente molto difficile diciamo da forzare e da e da e da rovesciare quindi c'è di tutto ma non vi sto oggi non vi ho raccontato tutto questo per farvi usare il tor per andare sul dark web avete capito che il mio scopo era un altro il mio scopo era farvi vedere come raggiungere un un anonimato di un certo livello online spero di esserci riuscito e come vedete è di una semplicità poi nell'atto pratico estremo ma se io fossi venuto qua e vi avessi detto a si fa così si installa la vpn vedi puoi scegliere da dove collegarti a ti scarichi il tor browser e sei a posto e sei anonimo che cazzo avreste capito niente perché non avreste saputo come utilizzare questi strumenti e io vi ho detto la superficie proprio abbiamo scalfito la superficie ho dovuto anche semplificare molte cose perché sono molto tecniche e molto complesse alcune di queste però avreste rischiato di avere in mano un coltello e sgozzarvi da soli per questo io avverso e non me ne vogliono personalmente non me ne vogliono personalmente gli youtuber che beati loro hanno una partnership con nordvpn che gli dà dei soldi o gli promette delle provvigioni per vendere i loro servizi e loro le pubblicizzano al meglio che possono ma queste persone non sapendo di che cosa parlano ma come io non saprei di cosa parlassi se mi facessero pubblicizzare che ne sono un paio di scarpe creano delle false percezioni di sicurezza che non sono supportate nella realtà cioè se voi convincete un vostro utente a installare la vpn perché è sicuro perché è un layer in più di connessione che tutti dico di sicurezza che tutti dicono questa frase non state facendo secondo me un favore al vostro utente lettore visitatore follower quello che è perché non sa come usarla e rischia di impiccarsi questo magari crede che con la vpn può fare il cazzo che vuole perché tanto è anonimo il giorno dopo si trova la finanza in casa o la polizia e ora io non voglio dire che è un agente provocatore ed è diciamo un un induzione all'illecito perché chiaramente non lo è però una falsa sicurezza e una falsa tutela potrebbe portare qualcuno a fare cose che non farebbe mai sapendo di essere rintracciabile ok quindi ogni cosa al suo utilizzo come normale che sia ogni strumento è legittimamente diciamo valido lo è la vpn lo è tor lo è la scheda della navigazione in incognito come vi ho detto all'inizio se il vostro intento è non far conoscere a chi usa il vostro computer insieme a voi cosa visitate potete usare quella non vi serve usare nient'altro nella maggior parte dei casi a meno che non viviate con un procuratore della repubblica in quel caso va bene diverso però bisogna sapere ogni cosa a cosa serve quando può essere utilizzata ci sono anche siti dove gli attivisti rivoluzionari scambiano informazioni di propaganda nei paesi dittatoriali certo c'è tutto nel dark web comprese queste cose che non potendo essere raccontate in chiaro perché sono osteggiate dai governi devono passare per un sistema di quel tipo che non è di fatto facilmente censurabile anche per questo ecco è bene che imparate ad usare questi strumenti anche in questa chiave di sopravvivenza alla fine del mondo perché se tutto è controllabile ci sono alcune cose che lo sono un po' di più e altre un po' di meno e io non vorrei che un giorno dovessimo trovarci tutti là sopra per metterci d'accordo sulla data in cui scappare tutti quanti senza essere intercettati diciamo alle frontiere o va a sapere cosa chi lo sa voi tenetevelo lì gli scenari futuri sono imprevedibili per definizione ti meriti anche due pizza se qualcuno pensasse veramente che mi merito qualcosa torniamo così può fare una cosa può andare anche senza tor tanto non traccio niente su www.pantoprazzolo.club il link è anche qui su www.nonhocapito.it e abbonarsi al pantoprazzolo club se volete potete contribuire al progetto costa 8 euro al mese oppure 80 euro all'anno ed è un ottimo modo per continuare a farmi fare questo lavoro peraltro è proprio sul pantoprazzolo club che io ricaricherò questa puntata e tutte le puntate successive del lab che sarà disponibile solo per gli abbonati su twitch ma per il tempo in cui twitch conserva i video poi vengono cancellati in eterno invece solo sul pantoprazzolo club questa puntata non la ricaricherò su youtube un po mi dispiace perché penso che possa essere utile ma in realtà la caricherò solo sul club e tutto il lab sarà lì in più sul club ho intenzione di fare un mini corso di qualche puntata di video in cui spiegarvi come rendere il computer il telefono il più sicuri possibili altre cose invece le affronteremo in altre puntate del lab e puntate come questa vedrete ce ne sarà una ogni mese quindi è prevista una puntata del lab al mese che si alterna nel giovedì con gli altri format e quindi vedrete che insomma di cose da dirci ne abbiamo senza dubbio tante se avete domande questo è l'ultimo momento per farmene se siete su twitch se no potete farmene quando volete ovviamente sul club ma tra poco chiudiamo l'accento svedese si fantozio diceva di sapere anche un po di accento svedese si per caso sai quella differenza tra troll tor browser e tiles no non so cosa sia i nodi lenti sono quelli dei servizi segreti italiani può essere lo zio sandalato col saio metus si appena cambiati prima avevano il 28k contro browser passa sulla rete tor solo quello che fai sul browser o sbaglio configurato così si ecco stavo dicendo quello non è system wide è solo dentro quel browser quindi se lo usate così come ve l'ho fatto vedere tutto quello che passa in quel browser passa su tor però tutto il resto no cioè se avete aperto il tor browser e safari safari va in chiaro o su vpn eccetera ci sono anche vabbè diciamo anche questo ci sono anche delle possibilità ibride o meglio di maggiore sicurezza potete usare per esempio la vpn mentre usate tor se vi collegate alla vpn poi a tor state usando tor over vpn e peraltro nord vpn vi dà anche una possibilità di configurazione apposita on your over vpn vedete che somma fate i vostri calcoli elementari somma a catena le due cose e quindi è senza dubbio un livello in più di sicurezza in questo senso è fatto un bellissimo lavoro bene grazie spero che vi sia piaciuta quasi pubblicizzano solo sandali io però non ho capito ma l'uomo nel mezzo non viene escluso da questi due sistemi sì è quello che abbiamo diciamo detto fin dall'inizio lo scopo della puntata è proprio dire che il man in the middle in questi due sistemi comunque è escluso una falsa sicurezza la peggior cosa vero ci ritrovevo nel dark web può essere la gente delle digos che ci osservi grazie a me io la vpn la uso solo per vedere la formula 1 gratis un pantoprazzolo punto onion ci starebbe anche questo format ha superato di gran luga le mie aspettative complimenti grazie ottimo grazie elin non so se ti sto chiedendo una cosa stupida ma se ti va potresti fare una lezione su come proteggersi dai pericoli della rete soprattutto quando utilizzarla sono degli ignoranti come me mi piacerebbe essere più pratica per poter proteggere le mie figlie che presto inizieranno a utilizzare il computer possiamo farlo sul lab potremmo affrontare anche questo argomento e quindi lo faremo credo non ti preoccupare che succede se uno su una torre la vpn contemporaneamente ecco avevo già risposto se poi usi il wifi del vicino aggiungi un livello di sicurezza in più ecco se uno vuole essere veramente veramente anonimo allora si compra un o meglio se vuole aggiungere un altro livello ancora si compra un computer in un negozio sperduto pagandolo in contanti ma non quelli che ha prelevato al bancomat perché sennò sono segnate i numeri di serie cioè se voi prelevate 50 euro al bancomat quei 50 euro che siano in mano a voi si sa vabbè allora trovate dei soldi o ve li fate prestare o mandate qualcuno a comprare un computer in contanti lo portate in mezzo alla campagna lo aprite col cacciavite gli strappate la scheda wifi la scheda diciamo anzi no non gliela strappate strappate la scheda wifi o gliela strappate ne usate un'esterna che comparte da un'altra parte e poi girate per la città cercando di craccare le reti che trovate in giro e quel computer non lo accendete mai quando è nella nella vicinanza di vostri telefoni computer a casa vostra non si deve mai collegare ad internet vabbè ci sono mille cose da dire da fare la cosa più sicura è una rete privata in casa sì però non vedi le cose che stanno fuori qua parliamo di accedere ad internet anche one x fornisce la possibilità di usare torso tutto il sistema può essere dopo questa puntata credo che mi scriverò al libitum meriti più caccatori ottimistimo lavoro ad limitum va bene grazie a tutti allora vi lascio andare mi ordino una pizza anche perché dopo qui verrà una persona che è una vostra vecchia conoscenza ricominciamo finalmente a fare i video ma non saremo in diretta oggi praticamente starò davanti alla camera per sei ore grazie a tutti ci vediamo domani alle 12 e 30 con il panto prazzolo buona serata a tutti e questo video lo ricarico appunto sul club buona serata e buona notte buona cena per chi deve ancora mangiare ciao ciao fermi mi avete fregato non è vero che c'è bugalalla in diretta volevo mandarvi lì ma niente non posso mandarvi basta vi mando a dormire ciao buonanotte parte 2 ciao 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 ciao